Buongiorno a tutti, siamo qua per, come dire, raccontare quella che è la trasformazione della città in ambito soprattutto accessibilità e inclusione. Io sono Cristina Bellingeri, sono architetto, sono la disability manager del comune e quindi, come dire, mi occupo di tutto quello che appunto riguarda i temi dell'accessibilità e dell'inclusione all'interno del comune di Genova. Oggi siamo qua per, come dire, un evento molto interessante, ci saranno sicuramente degli interventi interessanti che riguardano la mobilità e in particolare siamo qua per firmare un protocollo con, per il progetto Sport for Dis, spot for Dis nel senso di, spot nel senso di stallo for Dis for Disable. E l'obiettivo qual è? È quello, diciamo, di trovare, sviluppare un nuovo sistema informativo di smart parking in grado di ottimizzare, diciamo, le ricerche di parcheggio per le persone con mobilità ridotta utilizzando immagini satellitari, quindi utilizzando Google, utilizzando Street View e utilizzando anche l'intelligenza artificiale. sicuramente, diciamo, il progetto è stato proposto da una organizzazione non governativa spagnola che poi, diciamo, si presenterà successivamente e adesso lascio la parola all'assessore Campora che, come dire, introdurrà i lavori e ci sarà successivamente la firma del protocollo. Bene, grazie Cristina e un benvenuto a tutti. Siamo all'interno della Settimana Europea della Mobilità e come ogni anno vengono organizzate molte iniziative di diverso tipo. Iniziative che riguardano il trasporto pubblico locale in senso lato, i grandi progetti di trasformazione della città, la ciclabilità, la mobilità sostenibile e questa mattina il focus riguarda gli spazi pubblici, l'urbanismo tattico e tutti quegli interventi che servono a rendere più fruibile il nostro territorio e in qualche maniera anche ci permettono di togliere da determinate aree la presenza delle auto e delle autovetture rendendo gli spazi a tutti i cittadini. Verranno raccontate una serie di iniziative che abbiamo promosso attraverso anche il coinvolgimento dei municipi e dei cittadini. Ricordo l'iniziativa a San Pierdarena dove sono stati individuati alcuni siti che saranno oggetto di trasformazione. All'interno della settimana europea della mobilità abbiamo poi il tema fondamentale che riguarda i nostri concittadini che hanno delle difficoltà di ambulazione o difficoltà legate alla loro disabilità ed è un tema importante soprattutto in una città complessa e complicata come la nostra. Allora in quest'ottica per cercare di migliorare il sistema abbiamo deciso di firmare questo protocollo a seguito anche di incontri che abbiamo avuti proprio con la finalità di andare a mappare tutti i parcheggi disabili e poi in un passo successivo l'obiettivo è quello di permettere alla persona che si trova in auto di verificare se lo stallo sia libero o meno e credo che questo poi sia l'elemento importante che permette poi a una persona di organizzare al meglio il suo viaggio perché se deve andare deve recarsi al lavoro deve sapere se troverà un parcheggio dove lo troverà ed è uno strumento molto semplice ma fondamentale nella quotidianità perché poi nella quotidianità servono questi servono questi strumenti per vivere meglio la sostenibilità è uno dei temi che ha che sono stati centrali in questi sette anni di amministrazione l'obiettivo primario è quello di puntare sui sulla mobilità sostenibile ma soprattutto puntare sul trasporto pubblico locale e anche in quest'ottica legato poi ai temi della accessibilità abbiamo un piano di trasformazione che porterà nel giro di tre anni alla sostituzione di tutti i mezzi della nostra azienda di trasporti e saranno mezzi più accessibili ci saranno le pedane funzionanti meccaniche non elettriche perché le elettriche sono soggette spesso a guasti a guasti ripetuti e quindi un parco mezzi che potrà dare un servizio adeguato a tutti i cittadini a prescindere dalla loro condizione e non aggiungo altro se non di augurarvi un buon lavoro io purtroppo poi tra dopo la firma del protocollo sono atteso dal dal sindaco proprio per le nostre riunioni mensili per fare un check sui progetti sui molti progetti in essere ma saranno qui sarà qui cristiana berlingeri nostra disability manager ma vedo che qui la mobilità e ben settore mobilità ben rappresentato e quindi cristina io direi che potremo procedere alla diciamo tanto la firma del protocollo intanto chiedo a se volete intervenire anche per raccontare quella che è la vostra idea ma soprattutto quello che avete fatto in questi anni non in italia ma a barcellona si buongiorno a tutti io sono danilo francesca sono rappresentante dell'organizzazione no profit di assopmr associazione dei persone scommodità riducida e che è io sono il tesoriere e insieme al presidente anche lui italiano abbiamo sviluppo stiamo in essere sviluppare il progetto spot for this spot for this nasce con il contributo di google.org che è la parte rsc di google che ha finanziato il nostro diciamo ha supportato il nostro progetto ok questo diciamo il nostro team siamo ben rappresentati siamo lo sviluppo è proprio in casa del progetto presidente io il tesoriere e anche altri due risorse siamo italiani nonostante siamo barcellona contesto contesto a chi ci rivolgiamo il nostro target circa 15 milioni di persone con ridotta mobilità in europa oltre un milione e mezzo si stima in italia di cui si stimano oltre 5 milioni in possesso della del cute della tessera di parcheggio noi però cerchiamo di rivolgersi un insieme un insieme un po più grande che quindi con il paradigma wise human city dove cerchiamo di includere nell'insieme della mobilità ridotta anche chi ha una disabilità temporanea donne incinte anziani e persone con mobilità ridotta così un po con i riconoscimenti che abbiamo ricevuti primo nel 2022 il premio zero project emesso dalle nazioni unite il nostro le nostre practice policies fanno parte del manuale internazionale per l'accessibilità e poi il supporto di google che menzionavo prima per il progetto per lo this abbiamo identificato delle proprie perché nasce spot for this perché nasce questo progetto perché ci sono delle problematiche che abbiamo identificato per gli utenti prima di tutto come diceva l'assessore campora per l'utente è importante identificare dove posso parcheggiare dove sono gli stagli perché prima di tutto di sapere se libero occupato almeno sapere dove sono poi la normativa di dove posso posteggiare la normativa mi dice se posso posteggiare per un tempo limitato sia un costo se posso posteggiare in altri stalli se gli stalli accessibili sono occupati e poi nell'ora di siamo in liguria una regione molto turistica un utente un turista può venire a genova e poi andare nella costa o in altre province giorno d'oggi ogni città va a sviluppare la propria app quindi noi sposiamo la trasversabilità la un'unica soluzione per l'utente appunto quindi il paradigma wise human city l'utente al centro le conseguenze perdita d'autonomia e città meno inclusiva questo invece abbiamo raccolto le criticità nei centri urbani la difficoltà nella gestione degli stalli stalli personalizzati stalli generici la difficoltà di individuare gli stalli a pagamento e la difficoltà anche di supportare politiche per l'uso del trasporto pubblico anziché il trasporto privato la prima soluzione che nasce per affrontare questa problematica è la soluzione park for this prima soluzione europea che ha l'obiettivo appunto di mappare gli stalli e nasce come un app per identificare gli stalli e aiutare la polizia nel controllo e nella gestione delle aree si sosta si divide in due aree park for this people la soluzione people che per l'utente che ha la funzionalità di tra l'altro di dare l'informazione libero occupata con l'installazione dei sensori con l'installazione dispositivi iot e riportare avvisi e la soluzione admin che è una soluzione che viene offerta alle amministrazioni al dipartimento mobilità per l'enforcement per la parte di gestione dei dati questo un poco i kpa che sono stati raggiunti circa 9.000 utenti registrati e circa 52.000 stalli mappati in otto paesi poi spot for this quindi si è passato da park for this a spot for this con l'aiuto con il contributo di google spot for this all'obiettivo di migliorare l'esperienza dell'utente migliorare la semplificazione l'identificazione degli stalli con l'aiuto dell'intelligenza artificiale aumentare la mappa il numero degli stalli mappati ad oggi solo 52.000 è una viene offerta in web e in soluzione web ed app l'obiettivo di funzionalità avanzate come la voce per migliorare la sicurezza stradale la mappatura è il punto più importante prima veniva fatta con volontari open data informazioni offerte dalle città oggi invece con spot for this mappiamo grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale su immagini satellitare immagini google street più quindi riassumendo park for this rimarrà una soluzione dedicata alle città con l'integrazione di dispositivi iot per dare anche l'informazione libero occupata per dare la possibilità di riservare uno stallo attraverso l'utilizzo di smart barrier mentre spot for this sarà un'app informativa su base su scala europea e ci darà gratuita entrambe ci darà l'opportunità all'utente di visualizzare gli stalli spot for this è una soluzione che compatibile con lo standard firewall di cui genova parte questo è un poco il project plan partiremo questo ora siamo nella fase di educazione del della machine learning e poi seguiremo con il lancio dell'app per gli utenti che partire dal q1 2025 qui le cinque come sta il progetto progetto ha una durata di tre anni qui sono le cinque città che abbiamo incluso nel progetto quindi ringraziamo genova per cui l'amministrazione comunale e dipartimento mobilità che fortemente hanno voluto questo progetto per partecipare come prima città italiana gli altri sono spagnole prima città italiana in questo progetto spot for this e le altre sono valenza saracossa e badacosti di cui già abbiamo firmato il protocollo d'intesa e poi la prossima sarà una tra a corugna e seviglia indirittura di e questo abbiamo finito quindi dal protocollo grazie ringrazio per per l'esposizione molto molto chiara e ringrazio anche castellano della sua della presenza e comunque di questa iniziativa che è un'iniziativa a una buona una bella finalità ma anche iniziativa tutti gli effetti imprenditoriale e questo è estremamente importante perché genera comunque anche lavoro lavoro di qualità e con questa attività poi andiamo a risolvere i problemi quotidiani delle persone a questo punto io procederei se da me ne dà l'autorizzazione alla firma del del protocollo e in modo tale che sigliamo questo questa collaborazione tra asopmr e il comune di genoa pagina per pagina e poi in fondo grazie a tutti bene ottimo facciamo un applauso perché come dire è sicuramente una cosa per genova vieni un po forse più vicina vieni Cristina grazie a tutti grazie a tutti Questa è una planica che rappresenta l'ingresso e l'accettazione della città del progetto. Se siamo tutt'ora e volosi e se noi parliamo di origine, però rappresenti il nostro paese. Questo è un dettaglio. Grazie. Dico solamente finché c'è l'assessore, ci saranno altri due importanti progetti. Sarà uno che riguarda la regione Liguria, che è ripensare la mobilità verso un futuro inclusivo e accessibile, che riguarda l'accessibilità di piste ciclabile. E un altro che è il progetto Mobility, che è con il professor Canessa dell'Università di Genova, con cui abbiamo fatto anche dei focus gruppo, proprio con le persone con disabilità, per poter avere dei feedback direttamente dalle persone. Tutte persone più che note hanno l'accessibilità, quindi buon lavoro e grazie di tutto. La settimana della mobilità continua con una serie di attività, che saranno sia conferenze, ma anche interventi sul territorio. Ricordo che sabato e domenica mattina, tra piazza Palo Danovic, sarà un'iniziativa fatta di FIAP e di altre associazioni, togliendo delle auto, quindi andando a disegnare gli spazi. Quindi è qui sul sito, poi si trovano tutte le diverse iniziative che l'ufficio mobilità, insieme a tutte le associazioni, sta portando avanti. Buon lavoro a tutti. Ciao. Grazie. Allora, come dire, due brevi parole, nel senso che... E' che è abbastanza significativa. Io lo conosco personalmente, la persona della foto, e anche il professor Canessa lo conosce. Che, diciamo, qualche anno fa c'è stata un'azione molto forte da parte sua, perché non riusciva a... come dire, lui era sempre a una fermata dell'autobus e non riusciva a salire. Quindi, come dire, questa foto, ripeto, è una foto assolutamente non attuale, ma ci dà veramente, come dire, l'input a dire vogliamo fare qualcosa. Cioè, non dobbiamo solamente pensare di fare qualcosa, ma dobbiamo veramente fare qualcosa per le persone con disabilità. Le persone... ecco, vedete che le persone, come dire, esistono... Ovviamente, quando uno si parla di persone con disabilità, non si parla di un'unica tipologia di persona, ma, ad esempio, solamente le persone che hanno una disabilità motoria possono, come dire, viaggiare loro stessi con tantissimi ausili, tipologie di ausili. E quindi, come dire, noi dobbiamo pensare a come affrontare e come poter aiutare le persone. E, oltretutto, come dicevo, la disabilità non è solamente... non esiste solamente un tipo di disabilità, ma esistono, come dire, persone che hanno una disabilità diversa, ma anche persone che hanno una disabilità invisibile. Nel senso che queste che vedete, io non sto a dire, sono tutte persone che hanno una forma di disabilità. E quindi, a volte, perché a me capita a volte di sentire, di dire, di sentire che mi dicono, ah ma quella persona non ha necessità, quella persona è passata avanti in una... quando mi facevo una coda. Tu non sai, quando vedi una persona, se questa persona ha una tipo... una forma di disabilità. Le persone sono varie e, in mezzo alle persone, ci sono persone anche con disabilità. E persone anche con fragilità, appunto, le persone anziane, le mamme, appunto, incinte, eccetera, e chi ha una disabilità temporanea. Nel senso che, molto spesso, uno si rende conto dei problemi, giusto quando ha un problema temporaneo, si è un po' una gamba, eccetera, e a quel punto dice, ah non mi rendevo conto di quei problemi che c'erano da affrontare. Gli ambiti di intervento, per quel che riguarda, diciamo, l'accessibilità, sono vari. Come dire, nel nostro caso, in questo... oggi stiamo parlando di accessibilità ai trasporti, alle infrastrutture. Però gli ambiti sono veramente molti, che riguarda l'ambiente costruito, la comunicazione, le strutture. La comunicazione è una cosa molto importante, perché le persone con disabilità, prima di fare qualsiasi cosa, cercano, dato che hanno tanti, tanti problemi, si informano, prima di partire da casa, dicono che percorso devo fare, quale... cosa incontrerò, arrivo alla metropolità, poi magari lo vediamo. Allora, questi sono quello che, diciamo, i servizi offerti dal comune di Genova. Uno è un mobility bus, ad esempio, che è un servizio a richiesta, però noi vogliamo aumentare, come dire, l'utilizzabilità da parte delle persone disabili dei mezzi pubblici generali. Questo è quello che si vuole fare. Ad oggi, questo è quello che c'è scritto sul sito di AMD, come dire, noi vogliamo, in particolare con il progetto dei quattro assi, di aumentare questa capacità. Ecco, il PEBA, il piano di eliminazione barriere architettoniche, è un qualcosa che noi abbiamo, come dire, studiato, abbiamo studiato i percorsi e abbiamo studiato le varie fermate dell'autobus e questo, ad esempio, questo progetto sarà poi, come dire, andrà a implementare la banca dati anche del PEBA e quindi sarà una cosa molto utile perché a livello informatico riusciremo ad avere una banca dati con, come dire, tante informazioni. Il piano, vedete, il piano eliminazione barriere è diviso in due, diciamo, sezioni, uno per la disabilità motoria e una per la disabilità sensoriale perché banalmente una scala per una persona cieca non è assolutamente accessibile, per una persona in carrozzina è un qualcosa di inaccessibile. Quindi abbiamo dovuto fare, come dire, dividere tra disabilità motoria e disabilità sensoriale. e sono state fatte poi tutta una serie di schede, di studio, ad esempio, delle varie fermate, degli attraversamenti e anche, come dire, proprio anche particolari costruttivi e particolari anche che riguardano lo studio proprio della fermata dell'autobus a seconda anche delle varie tipologie di mezzi, in particolare lì c'è lo studio, diciamo, dei lodges per le persone cieca e i povedenti e l'indicazione di dove inserire, ad esempio, le mappe esatti e quant'altro. Questa è, anche questa è, diciamo, lo studio della, come dire, della fermata. Sono, diciamo, disegni anche un po' superati perché adesso poi, come dire, con i quattro assi in realtà lo studio della fermata è stata ulteriormente approfondita. Questa era una cosa che ci, come dire, ci piacerebbe tanto ma che per adesso è ancora un po' un sogno, cioè avere dei mezzi sostanzialmente che, ed è stata una nostra richiesta, vedremo, insomma, dei mezzi sostanzialmente che si allineano al marciapiede e che permettono alle persone di, come dire, di arrivare, di incarruzzarsi direttamente. Adesso, per ora, è ancora, come dire, è ancora un'utopia. Ecco, questa è una cosa importante. è il fatto che le piste ciclabili sono un qualcosa di molto positivo per la città, molto positivo perché, come dire, la città ha un vantaggio a livello, ovviamente, di diventare una città così molto sostenibile, ma anche perché è uscita una norma che dice che una persona con disabilità può transitare sulle piste ciclabili. E quindi, come dire, molto spesso le persone hanno dei problemi. Noi cerchiamo di intervenire il più possibile sui marciapiedi, ma sono tanti i marciapiedi e quindi, insomma, se c'è un aiuto delle piste ciclabili, ben venga. Ecco, questo l'ho messo perché durante il Covid noi abbiamo fatto una cosa molto interessante. insieme all'Unione Ciechi siamo riusciti a... perché il problema qual era? Che le persone cieche salivano sugli autobus, ma gli autobus li facevano salire nella porta centrale. Ma autobus affollato, la persona cieca non sapeva... cioè, non sapeva... non vedeva, ovviamente, no? Allora siamo stati i primi in Italia a ottenere, poi ci hanno occupato altre città, a ottenere che praticamente le persone cieche potessero salire dalla porta davanti, avessero il posto riservato, il primo posto a sedere, la stessa cosa nella metropolitana, cioè nel senso che ci fosse sostanzialmente un segnale lodges per terra in corrispondenza della porta, la porta si aprisse esattamente in corrispondenza del segnale podotattile e che ci fosse un sedile riservato. Questa l'ho messa per farvi vedere due cose, che qua sono le planimetrie metro di Madrid e di Milano. La cosa, come dire, che mi ha molto, come dire, così stupito, ma che è una cosa... è che nella metropolitana di Madrid, vedete là c'è un particolare, ci sono, nelle stazioni, sono segnate le stazioni accessibili, ma le stazioni che non sono accessibili sono segnate con un teschio, proprio a indicare il fatto che una persona disabile non deve andare in quella stazione, perché altrimenti ovviamente non sale. Quindi è molto importante dare informazione anche negativa, cioè non solo l'informazione è accessibile, è accessibile, ma anche l'informazione non è accessibile, perché una persona evita di fare il giro del mondo per andare... cioè lì sanno che non ci devono andare, punto. Quindi l'obiettivo qual è? È, come dire, rendere... questa è la mappa dei quattro assi, cerchiamo, diciamo, almeno sulla parte innovativa di dare, di aiutare, di fare. E quindi, come dire, il design for all, come dire, agli addetti ai lavori è una cosa molto, come dire, normale, quindi l'eliminazione riguarda sì le persone con disabilità, ma riguarda in realtà tutti. E è molto importante il coinvolgimento delle persone. Cioè, infatti, il progetto Mobility proprio si fonda su questo, sul fatto che gli utenti vengono chiamati, gli viene chiesto quale sono le loro esigenze. e quindi se io unisco, diciamo, il piano eliminazione barriere con il concetto di design for all, ottengo il piano, diciamo, un piano per una città for all. Quindi è una città per tutti. Quindi, una città per tutti, questa è l'ultima, significa, quindi, come dire, un posto dove si superano, diciamo, non ci sono barriere, ci sono i servizi, ci sono città più sane. Cioè, è una città per tutti. Quindi, con un'attenzione alle persone con disabili, anziane, eccetera, ma migliora la città e il benessere di tutti. La foto centrale, una foto che io ho fatto tre giorni fa, perché io ne vengo da Amsterdam, e devo dire che Amsterdam è una città assolutamente, ovviamente, molto particolare, perché ovviamente ci sono i canali, eccetera, ma la cosa che mi ha stupito è che, cioè, veramente ci sono pochissime macchine. La gente usa veramente tantissimo la bicicletta, usa i mezzi pubblici e il silenzio. Una cosa che, se devo dire, una cosa che mi ha stupito è il silenzio. Il fatto che la sostenibilità a volte passa anche da cose come fare una città veramente il più possibile a misura di tutti, perché ognuno ha una propria individualità. Grazie. Dobbiamo anticipare un attimo l'assessore Mascia, che poi purtroppo ci sei, quindi faccio il mio. Perfetto. Allora, dobbiamo un attimo, come dire, anticipare l'assessore Mascia, che introduce la seconda sessione che riguarda l'urbanistica tattica. L'urbanistica tattica, tra l'altro, è una cosa anche lì veramente molto interessante, è un progetto che riguarda in particolare una sperimentazione su San Piero d'Arena, poi ve lo racconterà, ve lo dirà l'assessore, e stiamo, come dire, facendo delle, stanno facendo delle valutazioni a cui io do il mio piccolo contributo come dal punto di vista dell'accessibilità ed è sicuramente, come dire, un qualcosa che permette di fare delle sperimentazioni sempre con il coinvolgimento dei cittadini proprio su, come dire, su delle proposte che l'amministrazione fa insieme anche ad altri soggetti. Prego, vieni. Grazie, buongiorno, mi spuso con voi perché ho una manifestazione del sindacale, io ho anche la delegale in relazioni sindacali in piazza Matteotti sulle morti sul lavoro e quindi dovrò andare a rappresentare l'amministrazione comunale dalle 10 in poi e insomma ci tenevo comunque a essere presente anche con una certa puntualità quindi siamo costretti a questo piccolo cambio di programma ringrazio in particolare l'architetto Giusto e l'architetto Quarello dell'urbanistica che sono qua l'architetto Giusto non è ancora arrivata però per il supporto che danno anche a me per andare avanti su questo progetto che è un progetto direi di cui si è parlato tanto in passato ma che devo dire mai come in questi due anni è stato messo a terra con iniziative sul territorio che hanno il significato di creare un po' degli shock in zone che normalmente sono governate dalle auto dal traffico dalla confusione che in buona sostanza sono zone e spazi che non sono orientati all'utilizzo da parte delle persone ma sono orientati da parte dell'utilizzo delle auto al servizio delle persone abbiamo iniziato una delle tante è stata Piazza Bandiera che come sapete è vicino al liceo Colombo è proprio dietro Largo della Zecca una piazza che assolutamente è occupata soprattutto durante la settimana ma anche nel fine settimana da moto e auto in quantità e che non riconosce neanche poi come piazza di fatto perché è un mega parcheggio più che una piazza e lì abbiamo fatto una piccola iniziativa che sta a significare che questi spazi possono essere riconquistati alla fruibilità delle persone e all'accessibilità anche delle persone perché ovviamente quando parliamo di fruibilità parliamo anche di accessibilità che non è solo esclusivamente l'accessibilità delle persone con disabilità dobbiamo entrare nell'ottica che quello che facciamo per le persone che girano su una carrozzella è quello che facciamo per tutti noi perché lo facciamo per le mamme che girano anch'esse sulla carrozzella lo facciamo per noi che non abbiamo problemi di deambulazione però ovviamente li possiamo avere nel momento in cui tutti i percorsi sono ostruiti dalla presenza di auto anche in parcheggio selvaggio e quant'altro quindi quante volte l'abbiamo constatato di persona queste sono iniziative un po' shock che abbiamo però messo a terra ora ce ne sarà una prossimamente anche in piazza Palo da Novi è una riconquista alla comunità dei cittadini intesa come city users quindi cittadini intesa come chi concretamente vive gli spazi di solito si identificano degli spazi che sono collegati alle comunità delle scuole alle comunità degli asili alle comunità comunità che sono fatte non solo di discenti ma anche di insegnanti e anche di tutte le famiglie che ci orbitano intorno e quindi alla mattina vanno a portare i bambini o i nonni al ritorno vanno a prendere i bambini insomma c'è tutta una vita che orbita intorno questi poli un po' più sensibili questi siti sensibili che evidentemente cerchiamo di rivivificare per fare in modo che ci sia anche una primariamente un'accessibilità perché come fai a fruire di uno spazio se non è accessibile è una contraddizione interna noi abbiamo messo a terra col Politecnico di Milano un progetto che è lo Genova Street Lab di cui ringrazio l'architetto Giusso che è appena arrivato e io credo che un applauso se lo meriti anche lei perché devo dire che vedi che ti abbiamo fatto entrare fatto un'entrata trionfale però te lo meriti insieme all'architetto Quarello insieme ai colleghi dell'urbanistica perché devo dire che questo è primo progetto che ha messo a terra un'urbanistica tattica che non è solo l'iniziativa spot ma anche uno studio uno studio replicabile col Politecnico di Milano che è partito ovviamente da un incarico che abbiamo affidato come urbanistica come direzione urbanistica è un incarico che riguarda innanzitutto lo studio e l'elaborazione degli indici di accessibilità e di prossimità che sono indici scientifici che vengono valutati in relazione non solo al traffico veicolare e al flussi anche pedonali in corrispondenza soprattutto degli utilizzi di particolari diciamo funzioni del tessuto urbano come quella scolastica come quella appunto educativa ma anche altre e abbiamo identificato il territorio di San Pier d'Arena come un territorio meritevole di particolare attenzione o comunque di prioritaria attenzione e quindi col Politecnico di Milano abbiamo iniziato un percorso che riguarda lo studio di questi indici di accessibilità ma anche il coinvolgimento attivo con questionari ad hoc preparati dai professori che ci stanno assistendo per fare in modo di coinvolgere in un un'ottica di cittadinanza attiva chi effettivamente utilizza gli spazi di quelle zone che sono quelle che abbiamo identificato di interesse ed è molto interessante verificare poi alla fine anche la percezione della fruibilità che hanno le persone da quelle di adulte a quelle un po' più diciamo in tenera età in un po' più ragazzi sicuramente non me tanto per cominciare però devo dire che questo studio è molto interessante perché nella percezione delle persone c'è quasi una una resa di fronte a spazi che sono comunque come vi dicevo governati a livello di mobilità da una chiara matrice funzionale direi automobilistica o comunque sicuramente non pedonale e questo comporta che cosa che nel momento in cui le persone non sentono gli spazi appartenere è chiaro che non hanno tra virgolette neanche la voglia di investire sulla sulla riqualificazione non hanno la voglia non li sentono proprio nel senso che sì sono spazi di tutti sono dei grandi parcheggi sono delle zone trafficate eccetera ma non sono di nessuno non scatta quel senso di appropriazione dello spazio comune che induce poi le persone a non tirare la cica per terra ad avere un margine di educazione civica non dico superiore alla media ma almeno a livello di standard perché se lo spazio viene considerato di tutti e di nessuno è chiaro che se non è di nessuno poi alla fine non ti chini per terra per andare a diciamo recuperare la cartaccia che è stata buttata da quello che hai davanti diciamo al marciapiede se invece riusciamo a far scattare questo sentimento anche con queste iniziative dell'urbanistica tattica di riappropriazione degli spazi pubblici il discorso diventa molto molto diverso e dicevo noi abbiamo fatto poi dei momenti di condivisione con il centro al centro civico guranello perché i risultati dei questionari li abbiamo condivisi con le diverse associazioni del territorio dopodiché siamo andati anche in municipio per condividerlo con chi rappresenta istituzionalmente il territorio non dimentichiamoci che la partecipazione attiva è tanto bella tanto cara ma ci sono anche dei criteri poi di rappresentanza democratica che devono essere ovviamente preservati perché ovviamente bisogna dare voci a tutto il territorio e in primis a chi lo rappresenta in base anche a elezioni democratiche lo dico di un municipio che tanto per essere chiari non appartiene diciamo all'orientamento del comune di cui faccio parte dal punto di vista politico ma la politica in questi casi la lasciamo un attimino da parte perché noi stiamo ragionando in termini molto diciamo scientifici stiamo elaborando insieme al Politecnico di Milano dei criteri che poi riplicheremo in diverse zone qual è l'obiettivo poi e vado a concludere e fare in modo che anche incrociando diversi dati di cui abbiamo già la disponibilità e che ci consentono diciamo di di farlo di arrivare al punto di identificare sul territorio genovese sul territorio cittadino delle zone dove ad esempio anche complice la mobilità l'odiosamata mobilità che poi comunque ci vede tutti i protagonisti a diverso a diverso titolo come diciamo scuteristi o come automobilisti quindi non è che stiamo parlando di un genere di persone assolutamente che c'è aliena però dei criteri che riescono ad identificare nell'ambito del territorio questo è il nostro obiettivo nelle zone dove il sequestro dell'anidride carbonica ad esempio è ancora più necessario perché c'è una mobilità un po' troppo spinta c'è poco verde c'è un'escursione termica troppo avanzata e lo si percepisce io da quando mi sono messo a fare l'assessore all'urbanistica mi sono addentrato in queste problematiche ho sviluppato una sensibilità nei confronti delle escursioni termiche devo dire anche eccessiva perché a volte faccio notare come passando in determinate zone di Genova c'è fresco e in altre zone si muore e si crepi veramente dal caldo oltre che dall'umidità però dicevo noi siamo in grado con i criteri che riguardano il sequestro dell'anidride carbonica l'ombreggiatura e quindi anche l'abbattimento delle isole di calore tutti i coefficienti anche che riguardano l'assetto idrogeologico del terreno il riciclo delle acque meteoriche la conformazione del suolo che consente o meno un drenaggio dell'acqua e di conseguenza anche tra virgolette oltre che la prevenzione del rischio alluvionale anche la possibilità di avere diciamo del terreno che risponde bene agli eventi meteorici abbiamo la possibilità e lo stiamo facendo di incrociare questi dati anche con poi la conformazione particolare della come dicevo la distribuzione del verde che significa non solo piantare degli alberi o evitare che è molto banalizzante avere un approccio solo che riguarda esclusivamente diciamo molto banale avere un approccio che riguarda solo ed esclusivamente la presenza degli alberi in realtà se riusciamo a mettere a sistema la presenza degli alberi o il verde di previsione quindi l'implementazione degli alberi con l'esigenza che indubbiamente c'è in particolare in zone di Genova di sopperire a un gap e restituire alle persone la vivibilità perché noi parliamo di accessibilità fruibilità ma nel momento in cui gli spazi non sono vivibili che non si respira fa un caldo da morire non riesci a camminare che hai le macchine in mezzo ai piedi anche se non hai la carrozzella non riesci neanche a camminare i bambini è meglio se te li porti in braccio perché viceversa il marciapiede è talmente stretto che ti rischi di trovarti di sotto un'auto ecco io credo che la vivibilità sia un altro coefficiente importante su cui stiamo lavorando in maniera ribadisco scientifica perché la sostenibilità ambientale è qualcosa di scientifico Genova non so se lo sapete ma ve lo dico io perché sono stato involontario protagonista di questo percorso ha vinto il primo premio dell'Instambur Environment Friendly City Award che ha segnato l'associazione Messitis a margine della COP23 io vi devo dire con una certa ingenuità sono andato a Portorose a ritirare questo premio con l'ufficio transizione ecologica della direzione sviluppo economico ho visto tutte le bandiere mi sono girato la mia vita è un po' a mezz'ora insomma poi alla fine non ho sempre la percezione della Cristina lo sa perché mi manda il report alla sera per il giorno dopo e anche per memoria però non mi sono reso conto ho visto tutte le bandiere schierate ho detto sembra di essere l'Assemblea delle Nazioni Unite ho detto guarda che non è proprio l'Assemblea ma è la COP23 sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite e Genova ha vinto il primo premio che riguarda proprio la sostenibilità economica lo sa qualcuno non lo sa nessuno a me che lo sappiano tutti mi farebbe tanto piacere però devo dire che mi fa ancora più piacere sapere che abbiamo tra le professionalità della direzione dello sviluppo economico e della direzione urbanistica delle eccellenze che ci consentono di traguardare degli obiettivi che ci sono riconosciuti a livello mondiale a livello mondiale senza fare non sono candidato quindi stiamo tranquillo non ho bisogno di fare il megalomane però devo dire che questo premio mi ha creato veramente un grandissimo senso di orgoglio non l'ho vinto io considero che l'abbiano vinto diciamo chi ci ha lavorato poi concretamente ma siccome la sostenibilità è qualcosa di scientifico ripeto anche l'urbanistica tattica vogliamo avere un approccio all'urbanistica tattica che sia scientifico partecipato come stiamo facendo e devo dire che è anche bello poi ritrovare nei disegni anche dei bambini nei disegni dei ragazzi quella che è la percezione poi della dell'accessibilità della fruibilità e della vivibilità delle zone di San Pierdarena devo dire che i questionari sui ragazzi ci hanno aperto ci hanno squarciato diciamo un mondo perché noi non consideriamo noi siamo ormai cresciutelli e quindi non consideriamo come percepisce un territorio o l'aria che si respira qualcuno che è più basso di noi forse non ci non ci non ci o che magari gira in carrozzella ad un'altezza diciamo diversa dalla nostra però è una percezione che forse è anche più realistica a volte di quello che è la nostra che viaggiamo su altri tipi di mezzi e con altre modalità perché i bambini ovviamente sono più a contatto proprio fisicamente col suolo e di conseguenza hanno la possibilità di verificare anche in maniera ahimè più diretta oltre che il coefficiente di inquinamento anche magari le potenzialità che possono esserci in positivo e quindi dare suggerimenti ancora migliori quindi io credo che poi annetto poi delle considerazioni ulteriori che verranno fatte io lancio diciamo da questo da questo pulpito tra virgolette un appello alla partecipazione e alla moltiplicazione di questi di questi di questi spunti di queste idee che riguardano l'urbanistica tattica perché credo che se poi piano piano passiamo ad un'ottica e facciamo arrivare a noi e alle persone che vivono con noi l'idea che forse se riusciamo a vivere in una città più vivibile anche la città è un po' più come dicevi tu a misura di persona perché poi alla fine la finale è che se tu non riesci a creare degli spazi e una città che ha misura delle esigenze delle persone alla fine ogni città vale l'altra una città vale l'altra non è che sia questo è un discorso molto diciamo quasi scontato però credo che veramente l'appello che vorrei lanciare è che gli uffici dell'urbanistica dello sviluppo economico sono a disposizione se ci sono da parte di associazioni che sono presenti anche qui vedo qualche rappresentante di associazioni qualche idea e qualche spunto ulteriore rispetto a quelli che stiamo già mettendo a terra in maniera scientifica sono assolutamente ben accetti e anzi vorremmo moltiplicare sempre di più queste iniziative perché abbiamo riscontrato un grandissimo interesse e anche perché no a volte anche un certo senso di appagamento e di serenità perché come dicevi tu a volte anche il silenzio e diciamo la liberazione dalla liberazione dall'idea che tutto sia funzionale la mobilità poi alla fine diventa diventa di per sé non ce l'ho con la mobilità ovviamente però il discorso è che va bene muoversi sul territorio cittadino però bisogna anche poter arrivare in spazi dove si gode e si ha diciamo la possibilità di vivere perché se no ti muovi da tutte le parti e poi alla fine faccio un ultimo esempio che riguarda Corso Buenos Aires Corso Buenos Aires è arrivato un francese che ha preso un appuntamento e chiudo veramente preso un appuntamento col sindaco perché è un signore tra l'altro veramente ha un grande senso civico pur essendo di un'altra di un'altra diciamo paese e fa sempre tutta una serie di osservazioni e mi ha fatto un'osservazione su Corso Buenos Aires che non avevo mai pensato se voi ci pensate come ci ho sono stato diciamo portato a pensare io Corso Buenos Aires così come è conformata con le diciamo anche le sbarre di contenimento dei marciapiedi è funzionare esclusivamente al traffico veicolare cioè non c'è pur essendo una un corso di collegamento tra aree verdi anche di notevole diciamo rilevanza c'è Piazza Paolo da Novi poi c'è Corso Torino che è un'altra grande corso diciamo alberato viale alberato triplo viale alberato c'è anche Brignoli con tutti i suoi alberi non hai la percezione che quel corso sia una connessione in particolare tra tutte queste aree verdi ha la percezione che sia un corso fatto potrebbe essere tipo lungomare Canepa o qualsiasi altro diciamo percorso para autostradale perché effettivamente lì non c'è nessun tipo di e lui suggeriva ad esempio di innestare delle forme di arredo urbano o non necessariamente degli alberi piantumati perché sapete che poi il problema degli alberi piantumati è di quello che trovi sotto che ci sono interferenze con i servizi però ovvero è possibile quello sarebbe l'ottimum ovviamente però Corso Bonesare si è indicativa perché effettivamente è un'altra zona infatti plaudo all'iniziativa prossima di un esperimento di urbanistica tattica in Piazza Prodanovi Corso Bonesare è il classico esempio di come all'interno del tessuto urbano e connettivo si abbia una strada importante che potrebbe significare il passaggio da una zona verde a un'altra da una zona vivibile a un'altra e allo stato dei fatti non te ne rendi ancora conto infatti ho dato poi mandato anche gli uffici di iniziare a lavorare su questo tema perché sono quelle piccole cose che al di là di tanti grandi progetti poi danno un senso diverso anche all'azione che facciamo concretamente sul territorio vi ringrazio e buona continuazione grazie mille e andiamo avanti con i lavori e allora chiamo qua al tavolo l'ingegnere Elisa Canepa e l'architetto Malaspina parleranno di ripensare la mobilità verso un futuro inclusivo e accessibile sono buongiorno a tutti io sono Elisa Canepa sono di regione Liguria settore infrastrutture e spendo giusto due parole per non portare via tempo l'architetto Malaspina per contestualizzare il nostro intervento sul tema delle infrastrutture pubbliche della disabilità come regione Liguria stiamo seguendo da diverso tempo stiamo soggetto a totore di un intervento molto importante di natura infrastrutturale che è quello che riguarda la realizzazione della ciclovia tirrenica la ciclovia tirrenica come qualcuno di voi già saprà è una ciclovia che fa parte del sistema delle ciclovie turistiche nazionali una delle dieci ciclovie turistiche nazionali che attraversa l'intero arco della regione Liguria per poi passare in Toscana e raggiungere la capitale Roma in Liguria la ciclovia tirrenica si sviluppa per circa 460 chilometri prevalentemente lungo la zona costiera abbiamo approvato come regione Liguria il progetto di fattibilità tecnico-economica e grazie a una serie di inventi finanziamenti in parte derivanti dal PNRR stiamo realizzando due lotti uno a Levante e uno a Ponente a Ponente stiamo intervenendo in provincia d'Imperia per realizzare quella che è la prosecuzione della pista ciclopedonale del Ponente che magari qualcuno di voi già conosce e che è diciamo è stata realizzata sull'ex sedime ferroviario della linea Genova-Ventimiglia tra Ospedaletti e San Lorenzo al Mare e noi stiamo proseguendo gli interventi del comune d'Imperia che già sta rifunzionalizzando questo ex sedime noi interveniamo a partire da Imperia lungo la strada incompiuta per raggiungere Andorra quindi 9 nuovi chilometri di pista ciclopedonale a Levante interveniamo in provincia della Spezia per realizzare 15 nuovi chilometri di pista ciclopedonale tra il centro di Sarzana e il confine con la regione toscana procedendo prevalentemente lungo gli argini del canale lunese che è un'infrastruttura da un punto di vista graurico molto interessante e che ci permette di realizzare una pista ciclopedonale prevalente in piano lungo i suoi argini questa diciamo questa esperienza ci ha portato ad affrontare in maniera attiva e operativa il tema della fruibilità di un'infrastruttura come questa da parte della più ampia utenza per cui abbiamo deciso di coinvolgere in maniera attiva la nostra consulta regionale per la disabilità volendo appunto oltre al tema della disabilità motoria che forse è il primo che ci viene diciamo da approcciare anche il tema in particolare della disabilità visiva l'architetto Malaspina ha ricevuto l'incarico da parte di Regione Liguria di affrontare proprio questa questa tematica e oggi ci illustra quelle che sono state le sue considerazioni e i suoi indirizzi alla progettazione esecutiva dei due lotti attuativi della ciclovia Tirelica lascio quindi la parola all'architetto buongiorno a tutti innanzitutto volevo ringraziare Cristina e gli organizzatori per averci comunque coinvolto per illustrare questa iniziativa di Regione Liguria passo subito alla prima slide cosa devo schiacciare Cristina ok quando sto coinvolto la prima riunione del gruppo di vari progettisti perché il progetto è composto da più lotti quindi ha progettisti diversi non è un unico progettista alla prima riunione ho chiesto loro ma avete pensato all'accessibilità di quello che state progettando sì sì nessun problema non abbiamo alcun gradino e già lì ho capito che forse il concetto di accessibilità era molto riduttivo in questi progettisti ho voluto mettere questa immagine perché è significativa la barriera architettonica non è solo il gradino in questa immagine voi vedete da un lato un attraversamento dove ovviamente c'è una barriera architettonica fisica che è il gradino ma dall'altro c'è una rampa anche la rampa è una barriera architettonica questo non era assolutamente chiaro ai progettisti vedo le facce di alcuni di voi sbigottiti come la rampa è una barriera architettonica sì la rampa è una barriera architettonica perché per una persona non vedente o ipovedente non c'è alcun segnale che permetta alla persona di capire dove finisce lo spazio pedonale dove inizia quello carrabile quindi c'è un pericolo quindi l'approccio è stato capite cos'è l'accessibilità sensoriale e cerchiamo di progettare al meglio l'accessibilità di questi spazi abbiamo iniziato a parlare di codici logis di mappe tattili e di modi per comunicare alle persone con disabilità sensoriale visiva lo spazio che circonda loro di solito per parlare di mappe tattili uso un'altra immagine ma ieri ho voluto cercare un'immagine di una mappa tattile in uno spazio aperto ho trovato un sito che si chiama architettura accessibile che proponeva questa immagine vorrei farvi pensare che cos'è quella mappa tattile proposta quella mappa tattile seppur colorata seppur col braille seppur con i numeri a rinievo seppur con mille caratteristiche è assolutamente inutile inutile a una persona non vedente perché la persona non vedente non ha alcun modo di capire che esiste quella mappa tattile perché a terra non c'è un codice che lo guidi a quella mappa tattile quindi l'installazione mera di una mappa tattile seppur pensata per persone ipovedenti o non vedenti non serve se la persona non è condotta a quella mappa tattile quindi questa bellissima immagine fa capire come ci vuole una progettazione ampia e non una mera installazione di una mappa tattile gli obiettivi che ci siamo dati sono quelli di chiaramente promuovere l'accessibilità indipendentemente dalle capacità visive della persona di creare dei spazi in cui qualsiasi persona possa muoversi in sicurezza e in autonomia riprendendo l'autonomia della persona è un requisito fondamentale abbiamo cercato anche di rendere l'intervento più sostenibile innovativo possibile quindi cercare di ragionare tra quali sono quelle sinergie tra linee guida naturali percorsi prodotti segnali acustici era assolutamente inutile e anti economico dissipare codici prodottati lungo tutto il peruso della ciclovia ogni volta c'è una linea guida naturale va utilizzata e va sfruttata le norme seguite chiaramente il DM 23689 anche qua volevo farvi porre l'attenzione quanto siamo indietro a livello temporale sulla normativa italiana su accessibilità il DM 23689 è ancora quello che ad oggi ci dice i parametri funzionali di ogni cosa che riguarda l'accessibilità questo è uno stralcio di una porzione di progetto la sinergia tra la mappa tattile segnali prodotti atti e l'inibito naturale è un modo di comunicare alle persone non vedenti o ipovedenti lo spazio in cui si stanno muovendo è fondamentale che i codici logis siano a differenza cromatica colpa la pavimentazione circostante siano il più possibile di percorso semplice quindi senza troppi curve o difficoltà di movimento siano percepibili perché chiaramente sono podotattili quindi percepibili dalle persone non vedenti e siano integrate con le mappe tattili le mappe tattili devono essere molto semplici perché la persona deve riuscire a memorizzare quello che c'è sulla mappa tattile quindi mappe tattili molto complesse creano poi dei problemi alla persona che li va ad utilizzare devono avere delle caratteristiche specifiche le mappe tattili ossia devono rappresentare anche il percorso podotattile su cui sono inserite perché ci deve essere il collegamento tra la mappa e il percorso anche dal punto di vista di percezione da parte della persona che utilizza la mappa tattile spesso le persone non vedenti dicono leggere la mappa tattile la nostra lettura è sempre fatta con gli occhi per loro è fatta con le mani le mappe tattili devono essere facilmente comprensibili devono avere il braille devono avere le lettere a rilievo rispetto allo sfondo devono avere differenza cromatica e anche su questo ci siamo battuti per far capire che la differenza cromatica con lo sfondo non è solo un colore diverso perché bisogna tenere in considerazione anche le pressioni daltoniche quindi una scelta di colori adeguata ad avere una percezione anche dal punto di vista delle pressioni daltoniche abbiamo aggiunto dei QR code in modo tale che ci siano anche informazioni anche per le altre persone e queste mappe tattili sono state comunque il più possibile disposte su dei leggi che al contempo non fossero ostacolo per la percorrenza della vista ciclabile qua ci sono altri due stralci sempre di progetti della ciclovia abbiamo cercato anche qua di posizionare le mappetate nei punti chiave spesso all'accesso dei tratti e dove ci sono possibili intersezioni una delle difficoltà che abbiamo trovato è i punti di intersezione con altri percorsi dove non ci sono ad oggi segnali podotattili abbiamo visto che lo sviluppo dell'accessibilità sensoriale non è così frequente anche in spazi pubblici anche di recente realizzazione e quindi la difficoltà è stata cercare di creare una sinergia tra il nostro intervento accessibile con gli spazi limitrofi non accessibili questo è stato un po' un discorso molto complesso in alcuni punti perché l'intervento non è solo in ambito urbano ma è anche in ambito extraurbano quindi mentre in ambito urbano c'è una sorta di controllo in teoria della mistura pubblica di quella che è l'accessibilità sensoriale in ambito extraurbano si sono rilevati maggiori problemi gli obiettivi sono creare comunque una inclusione sociale quindi spazi per tutti valorizzare il territorio avere una sicurezza di quella che è la percorrenza e una sostenibilità ambientale dell'intervento rapidamente concludo riallacciandomi a quello che ha detto Cristina che sta sorridendo perché di solito metto sempre solo la ragazza ma ho voluto mettere anche un ragazzo vi ringrazio molto per l'attenzione e vi lascio con due foto con persone con disabilità per farvi capire che come ha detto prima Cristina la disabilità non è sempre facilmente percepibile se voi ci fate caso queste due immagini sono due persone con disabilità vi ringrazio molto buona giornata sicuramente molto sicuramente il concetto quello iniziale il concetto di barriera architettonica è uno dei come dire degli ostacoli che abbiamo nel senso che molto spesso ci vengono proposti dei progetti in cui il progettista ci dice ma qua come dire ci sono gradini non ci sono gradini è solamente il primo livello di accessibilità nel senso che è il minimo infatti ad esempio nella nella progettazione della metropolitana di piazza della nuova stazione nella metropolitana di piazza corvetto proprio siamo partiti da questo non ci sono gradini per fare tutta una serie invece di interventi di incrementi di considerazioni non ultimo il fatto che abbiamo messo abbiamo fatto fatto mettere a progetto un ascensore che dalla metropolitana dalla stazione della metropolitana arriverà all'acqua sola che permetterà alle persone con disabilità di fruire dell'acqua sola perché ad oggi c'è una salita che è veramente molto pendente e quindi nel senso quando uno fa un intervento non si deve limitare specialmente nell'ambito della mobilità è tutto collegato quindi io non posso limitarmi a un pezzetto io devo capire in che modo ci arrivo in che modo fruisco insomma tante cose e quindi arriviamo all'ultimo intervento di questa sessione che è quello del professor Nicola Canessa che vi illustrerà il progetto Mobiquity che è un progetto che è fatto in collaborazione con proprio anche insieme ad AMT e ad altri soggetti di cui vi racconterò grazie mille grazie Cristina per tutti gli organizzatori per l'invito a presentare il progetto Mobiquity è un progetto che lavora su un concetto come un po' si vede dal suo logo di poter mettere dentro la mobilità tutte le persone con tutte le loro disabilità ma non partire dal concetto di dover risolvere il problema come ci hanno detto moltissimi delle persone delle associazioni coinvolte risolvere una disabilità ma risolvere un problema che può essere di tutti infatti l'idea è quella di trovare delle soluzioni condivise che possono aprire maggiormente lo spettro degli utilizzatori dei mezzi pubblici e questo progetto si concentra prevalentemente su soluzioni digitali tecnologiche legate prevalentemente ad un'applicazione collegata a una serie di sensori che sono sui mezzi o possono essere informata per dare informazioni agli utenti su come accedere più facilmente al mezzo come comportarsi in certe situazioni particolari e come avere appunto informazioni utili per gestire il proprio viaggio comprese soluzioni che in parte verranno sperimentate solo in fase di living lab con gli utenti in fase invece anche durante la sperimentazione sul campo possano aiutare all'approccio alla fermata come ad esempio la possibilità di interagire con i semafori urbani per rallentarne il come dire lo scattare del rosso e permettere agli utenti di arrivare in tranquillità dall'altro lato della banchina in questo senso è molto interessante ad esempio il primo progetto presentato perché l'interscambio mezzo pubblico mezzo privato è un elemento fondamentale e ne abbiamo parlato con Cristina qualche mese fa la possibilità oltre di avere una mappatura dei mezzi per sapere degli stalli per sapere dove sono concentrate perché ovviamente gli stalli precisabili sono sia personali che pubblici quindi sapere dove è possibile migliorare preventivamente un servizio anche se ovviamente l'obiettivo è quello di migliorarlo in maniera complessiva e dall'altro lato trovare dei punti di interscambio mezzo pubblico mezzo privato garantendo ad esempio un posto disabile in rivicinanza ad esempio rispetto ai sistemi di 4 assi è qualcosa di fondamentale per il futuro Mobiquity come dicevamo è un progetto finanziato porfesr io come professore di urbanistica insieme al professor Casiddo di design copriamo due spettri molto diversi del progetto quindi dall'impatto sulla città all'impatto dell'interfaccia verso gli utenti ma il paternariato è molto vario come vedete c'è tutte aziende genovesi e MT come partner ovviamente diciamo che mette a disposizione i suoi mezzi per capire quali sono le criticità di accessibilità ma dall'altro lato T-Bridge come leader partner Logoil Gigare per la comunicazione Nextage e Hitec e più una serie di altri partner tecnologici tipo Leonardo proprio su la capacità di interfacciarsi con i mezzi di MT ma l'idea progettuale nasce appunto dalla possibilità di evolvere un progetto che era stato già vinto da T-Bridge che era Honor Horizon 2020 su la possibilità di dare dei feedback alle aziende di trasporto pubblico su i disagi avuti durante il proprio trasporto il proprio movimento ha la possibilità di avere una interazione duplice da un lato verso la società gestrice del trasporto pubblico e dall'altra invece anche verso la municipalità noi siamo partiti analizzando quelle che sono le infrastrutture oggi del trasporto pubblico urbano e una delle rispetto alle fermate le quantità di mezzi che passano la popolazione residente rispetto alle infrastrutture in questa fase l'abbiamo fatto su scala genovese ma l'ambizione è quello di portarlo su scala di città metropolitana dato che il gestore AMT gestisce oggi tutta la rete e partendo dall'ottimo spunto del BEBA sull'analisi delle fermate l'idea sarebbe quella di implementare alcuni dati per ogni fermata su anche l'accessibilità tecnologica quindi la possibilità di avere le informazioni digitali avere paline tecnologicamente avanzate ad oggi AMT sta installando delle paline sonore che permettono di avere l'informazione e ovviamente per i non udenti questo è ancora un problema quindi la possibilità si è sviluppata proprio durante questi cicli di incontri che stiamo facendo con le associazioni la possibilità di inserire semplicemente uno strumento che permetta agli apparecchi per i non udenti di interagire poter leggere queste informazioni di nuovo come diceva prima l'artito ma la spina leggere in un modo diverso e questo ha portato a cose semplici a volte ad esempio AMT sta affrontando l'inserimento di questi apparecchi anche nelle proprie biliterie perché fino ad oggi non c'era quindi questo può essere già un primo risultato del progetto ma l'idea è proprio quella di mappare le fermate e di capire un grado di accessibilità in parte il web lo fa per tutta la parte diciamo di accessibilità motoria e sensoriale e l'idea però è capire anche come appunto l'accessibilità tecnologica possa permettere di dare quel di più che possa permettere in certi casi di superare alcune difficoltà di accesso è un progetto che lavora sul processo di co-design con gli utenti infatti i nostri partner istituzionali da un lato sono assolutamente l'ufficio dell'isability manager con Cristina l'assessorato alla mobilità la consulta regionale sulla disabilità e ci sono dei moltiplicatori come l'associazione ASTAC l'associazione nazionale sui trasporti e l'ANCI per la sperimentazione poi in altri contesti urbani alla fine del progetto ma soprattutto il cuore vero di questo progetto sono le persone e sono le associazioni i gruppi le fondazioni come la fondazione CEPIM la fondazione Davide Chiossone che ci ha un'enorme mano nella gestione dei tavoli di scambio l'AISM l'Ali l'associazione Ipovedenti ANGLAT e General Solving for All sui processi di mobilità per i PRM noi con tutte queste associazioni e adesso ormai anche con altre abbiamo fatto delle fasi per ora di quelle di co-design che sono finite nel mese di luglio e sono fasi dove stiamo cercando di capire con loro quali erano le esigenze di ciascuna associazione rispetto ai propri utenti la cosa bellissima che è uscita fuori è che tutte le associazioni erano non so dire disinteressate ma erano in qualche modo disinteressate a risolvere il proprio problema ma spingere per trovare delle soluzioni collettive e soprattutto in una grande diciamo generosità potremmo dire risolvere il problema di chi non si sente disabile loro dicevano la mia amica vede poco è ipovedente ma non ha il coraggio di dirselo in qualche modo perché ormai ha perso di otrie ormai ha difficoltà a prendere il mezzo pubblico non lo prende più perché si trova in una difficoltà che non è in grado di accettare e riconoscere e quindi da un lato ha bisogno di una anche in questo caso di un'applicazione che non sia rivolta a un settore ma che sia per tutti in qualche modo che sia accettabile da tutti la nostra mappa di stakeholder è molto ampia come vi dicevo sta crescendo in questi focus group sono uscite fuori diverse cose interessanti rispetto a quelle possono essere delle gestioni del percorso dell'accesso alla fermata dell'accesso al mezzo pubblico di sapere la disponibilità o meno del posto riservato sul mezzo se occupato o meno l'informazione sugli ascensori guassi o meno nelle trasporti delle metropolitane ovviamente il progetto non ha un budget per poter coprire tutto però in fase teorica ovviamente verrà aperta tutte le esigenze con un'applicazione molto completa un po' più ristretta nella fase di sperimentazione in Living Lab e ancora un po' più ristretta su quella sul campo in base al budget disponibile ma l'idea anche di MIT di poter proporre l'avanzamento delle altre applicazioni su altre parti di ricerca la cosa di nuovo più bella che uscita fuori che non pensavamo possibile è che gli autisti di MIT ci hanno chiesto di partecipare a un focus group dedicato perché anche loro si sono sentiti in una condizione di dover capire quali erano le esigenze delle persone che dovevano accompagnare durante il percorso ad oggi ovviamente gli autisti che nell'ultimo anno e mezzo hanno seguito una serie di corsi anche di formazione in gran parte per la sensibilità verso il tente fragile riescono ovviamente a riconoscere il cieco con bastone e quindi lo aspettano riescono a vedere la persona in carrozzella e quindi aiutano quando funziona la pedana del mezzo a salire ma molte volte non hanno idea di avere davanti una persona con sensibilità sono arrivati alla conclusione che sono d'accordo sostanzialmente a far sì che tramite l'applicazione che stiamo sviluppando poter avere ricevere dall'utente l'informazione che c'è un utente con una disabilità infermata riceverlo sul mezzo e quindi porre un'attenzione maggiore a chi sta salendo e quindi capire se ha bisogno di un supporto o di un'informazione un'informazione quindi noi stiamo sviluppando questo qua ad esempio il case use sul viaggio che parte dalla fermata quello che succede a bordo alle fasi di discesa così come diciamo dei case use laterali come il caso di emergenza banalmente c'è una manifestazione e l'autos cambia tracciato come faccio a informare l'utente cosa succede è ovvio che l'utente ad esempio non udente ha una difficoltà a ricevere un messaggio sul mezzo può entrare panico soprattutto noi stiamo lavorando molto anche con CEPIM la persona con disabilità cognitive e di conseguenza stiamo dando la possibilità tramite app ai caregiver di vedere dov'è la persona a interagire con la persona ed eventualmente anche con l'autista per capire come mettersi in condizione di creare un viaggio più sostenibile da un lato in sicurezza e soprattutto lavorare su quello che dicevano prima entrambi gli assessori la possibilità di favorire il trasporto pubblico urbano ridurre quindi l'arrivo delle macchine in qualche modo nel centro per tutte le fasce di utenti perché la prima volta che abbiamo parlato con i PRM soprattutto ad esempio gli associati di Angra che mi hanno in mente era io ho una corazzina tagliando per la macchina mi viene molto più facile oggi prendere la macchina perché effettivamente parlando con altre associazioni veniva fuori io a volte aspetto sette autos prima di avere quello che non che è il mio ma che è il mio che è disponibile per farmi salire che ha le condizioni ideali per permettermi l'obiettivo ovviamente è quello di creare un viaggio più sicuro più facile e quindi migliorare anche l'accessibilità alla città adesso ci sarà poi la sperimentazione delle soluzioni sempre con tutte queste fasi insieme alle associazioni sia Living Lab sia risultato vi ringrazio per l'attenzione grazie mille ringraziamo il professor Canessa e aspettiamo con ansia i risultati del progetto perché sicuramente determineranno un miglioramento nella fruizione dei mezzi da parte delle persone con disabilità e di tutti ricordiamoci sempre che tutti i ragionamenti che noi facciamo li facciamo sempre per tutti quindi io qua chiudo la sessione diciamo la prima sessione non ho un orario spero di essere non lo so di essere in orario e lascio la parola alla seconda sessione quindi grazie a tutti grazie mille prima di lasciare la parola alla modellatrice che è l'architetto per Santelli portiamo soltanto i saluti del nostro direttore d'area l'ingegner Prandi che purtroppo non è riuscito ad essere presente per un impegno di lavoro però che ci teneva molto insomma a portare i suoi saluti anche perché di urbanistica tattica ce ne stiamo occupando proprio come area attraverso un progetto che coinvolge un po' varie direzioni che fanno parte dell'area di gestione del territorio grazie bene buongiorno a tutti allora entriamo un po' nel vivo della seconda sessione che è incentrata su interventi di urbanistica tattica e rigenerazione degli spazi pubblici l'urbanistica tattica è stata nominata oggi già tante volte nella sessione precedente e questa sessione mette un po' a confronto l'esperienza di quattro città di Bologna Milano Bergamo e anche di Genova ascolteremo degli interventi diversi che si occupano di urbanistica tattica applicata dalla mobilità scolastica dal rapporto tra le scuole e gli enti locali fino poi alla rigenerazione vera e propria di spazi pubblici io passerai subito la parola alla prima relatrice Chiara Girotti grazie Chiara Girotti è responsabile delle trasformazioni urbane e ciclabilità presso il dipartimento lavori pubblici verde e mobilità del comune di Bologna e oggi condividerà con noi diversi interventi incentrati sulla mobilità scolastica grazie se mi spieghi questo per andare avanti grazie innanzitutto per l'invito e per lo scambio di esperienze e anche per la presentazione precedente che è stata molto interessante io vi parlerò di mobilità scolastica e di quello che sta succedendo a Bologna su questi temi e le esperienze che stiamo avendo perché è un'esperienza di comunità e sostanzialmente perché le persone che sono ingaggiate in questo tema sono tantissime e le energie che girano intorno al muoversi in maniera sostenibile nell'ambito scolastico nascono dal basso ma poi coinvolgono l'amministrazione coinvolgono le scuole moltissimi i miei colleghi in modo trasversale sostanzialmente il primo modo sistemico in cui abbiamo iniziato a lavorare è un progetto che si chiama Bologna Scuola si muove sostenibile in cui abbiamo chiesto la collaborazione di un pedagogista come settore mobilità e questo è stato per noi abbastanza importante perché è proprio il punto di vista giusto per entrare nelle scuole ed è stato il modo in cui abbiamo iniziato ad avere un approccio sistemico abbiamo creato un tavolo intersettoriale che è iniziato innanzitutto a conoscersi perché comunque è vero che nelle amministrazioni i settori spesso lavorano in modo verticale e capire le opportunità di intersettorialità non è così scontato i vari uffici che si sono interfacciati sono relativi soprattutto a mobilità educazione e alla parte urbanistica abbiamo anche cittadinanza attiva che è stata per noi fondamentale fondazione innovazione urbana e la polizia locale poi ovviamente ci siamo a basi di Walter Baruzzi che è un pedagogista del centro d'artide questo è quello che è successo dopo che il tavolo intersettoriale ha iniziato a capire quali erano le soluzioni per approcciare il problema il pedibus è stato individuato come primo strumento operativo non come unico per fare per attuare dei cambiamenti da una situazione post pandemia in cui c'erano sei scuole coinvolte siamo oggi a una situazione di circa una trentina di scuole coinvolte che hanno attivato il pedibus oppure in casi insomma un po' più sporadici ma sicuramente eroici il bici bus perché divido i pedibus per quartiere perché nel nostro caso ma diciamo nel caso di città più grande l'apporto e la vicinanza territoriale che può avere un quartiere è fondamentale per noi perché non riusciamo a interfacciarci con tutte le realtà e in particolare il servizio educativo scolastico territoriale per noi è il punto di riferimento per capire che cosa sta succedendo quali sono le esigenze quali sono i problemi e cosa si potrebbe fare per migliorarlo diciamo guardandole dagli uffici cosiddetti centrali giusto per capire come funziona da noi l'attivazione del pedibus ma probabilmente in tante città è simile l'individuazione di una figura di riferimento nella scuola in mobility manager devo dire che su questo tema non siamo proprio bravissimi nel senso che abbiamo delle difficoltà a rendere a ufficializzare questo passaggio l'inserimento nel piano formativo la costruzione dei percorsi con i genitori in base alla necessità la fornitura di una casacca per un tema di sicurezza ma anche di riconoscibilità dei ragazzi e dei genitori anche per sentirsi un po' speciali quando la mattina si va in gruppo a scuola una chat che viene costruita dai genitori per le comunicazioni quotidiane e per l'organizzazione diciamo della mattina e la creazione di momenti di formazione ma soprattutto di momenti celebrativi e di divertimento perché diciamo sostanzialmente questo è un modo per far sì che ci siano energie per continuare il progetto distribuiamo un volantino che cerca di spiegare i passaggi fondamentali e la comunicazione in questo e la chiarezza dei ruoli di ogni componente è importante e poi facciamo una serie di attività che cercano di appunto alimentare l'appartenenza a questo progetto partecipiamo a siamo nati per camminare siamo nati per camminare credo che anche Genova parteciperà è un'iniziativa anche a livello nazionale in cui in un determinato periodo le scuole competono le classi anzi competono per chi ha un comportamento più sostenibile quindi chi viaggia per più chilometri il momento clou è quando le classi vincitrici arrivano in consiglio comunale e possono dialogare con gli assessori col sindaco oppure con noi tecnici e questo momento diventa sicuramente per l'aspetto culturale e l'aspetto di coinvolgimento molto importante anche come esperienza da portarsi a casa un passaggio che è molto apprezzato nella scuola è quello insieme alla polizia locale la polizia locale ha una piccolo ufficio che svolge educazione stradale fa dei laboratori in classe ma da quando abbiamo attivato questo progetto abbiamo ingaggiato la polizia locale per fare educazione stradale sul campo quindi ogni tanto la mattina vanno nel punto di ritrovo del pedibus e camminano insieme ai bambini facendo educazione stradale ovviamente il momento è esperienziale quindi sicuramente è più efficace per imparare scusate ecco rispetto ai momenti di arricchimento di questa esperienza e anche di allargamento questo era un po' lo spirito del tavolo intersettoriale ok il pedibus è il primo modo che abbiamo per approcciare il tema ma non fermiamoci qua dobbiamo essere molto più sistemici e pervasivi nella città questo è un momento durante la settimana della mobilità europea che si svolgerà anche quest'anno a Bologna si chiama pedibus spettacolare ed è il terzo anno quest'anno quindi sostanzialmente degli artisti accompagnano il pedibus una delle mattine durante la settimana della mobilità europea in questo caso c'erano dei musicisti l'anno scorso c'erano dei giocolieri domani non lo so perché è una sorpresa insieme ad alcune scuole ci sono dei progetti di urbanistica tattica molto piccoli nel senso che sono delle forme piuttosto che dei simboli nei marciapiedi per fare questo devo dire la parte procedurale è stata molto più lunga della parte esecutiva però ne valeva la pena nel senso che poi è un piccolo esperimento però ho fatto una volta devo dire che poi abbiamo un po' gli strumenti per replicarlo ed è questo secondo me il tema dell'esperienza ci porta poi avere invece delle attività che possiamo fare in modo molto più diffuso e questa è una novità che speriamo di attivare quest'anno è un piccolo tesserino per insomma contare quante volte uno è effettuato il pedibus durante l'anno poi cercheremo di capire a fine anno come celebrare questo momento perché ogni anno si conclude con una festa del pedibus e del bici bus e anche questi sono passaggi che forse io da tecnico non comprendevo del tutto come valenza invece devo dire che sono fondamentali per proseguire nel lavoro durante la festa di quest'anno abbiamo ricevuto cinque smile da FIAB di cui siamo molto orgogliosi ovviamente anche grazie al numero di pedibus che siamo riusciti cioè che la città non noi la città è riuscita ad attivare un altro filone è il filone dell'ascolto anche delle esigenze delle scuole noi come mobilità possiamo dare poche cose in modo semplice perché è tutto abbastanza complicato in modo semplice possiamo fornire rastregliere quindi abbiamo attivato inizialmente grazie a un finanziamento europeo poi ci siamo un po' organizzati per farlo in modo autonomo abbiamo attivato un filone speciale per la fornitura di rastregliere nelle scuole oppure per la richiesta di rastregliere all'esterno delle scuole ed è questo il primo passaggio anche di dotazione per poi poter dire che un bici bus è fattibile perché il ricovero bici è fondamentale ovviamente a questi progetti si associa un cambiamento progressivo dello spazio che però non avviene da solo cioè non è che noi possiamo andare oppure lo facciamo a volte ma devo dire con tanta più fatica la trasformazione dello spazio dove ci sono stati già progetti insieme alle scuole è stata più semplice non semplice ma leggermente più semplice questi sono momenti post pandemia di chiusura della strada nel momento di accesso uscita delle scuole è un'esperienza che è stata attivata in quattro scuole di queste quattro scuole devo dire che tutte quattro no ecco tre di queste quattro oggi hanno un'area pedonale non che poi possiamo chiamare piazza scolastica ma diciamo che preferisco chiamarla pedonale perché in realtà è un'area di tutti nasce dalla propulsione dall'energia delle scuole ma oggi la signora che va a fare la spesa ha un punto dove sostare un albero che con difficoltà sta crescendo perché ci impegniamo per far sì che ci sia della depavimentazione però non è così semplice poi la crescita del verde o almeno comunque dobbiamo imparare come renderlo efficace e poterlo far crescere in ambito urbano questa è l'ultima sperimentazione della strada scolastica diciamo così temporanea con la transenna è avvenuta una sperimentazione per otto giornate durante la primavera e devo dire che questo genere di attività vengono facilitate quando richieste dalla scuola o dai genitori però stiamo osservando che hanno una una loro naturale indebolimento nel tempo quindi cerchiamo di favorirle ma non è detto che poi continuino perché diciamo l'approccio del volontariato è poi un divago insomma dipende sostanzialmente dalle persone coinvolte questa è la prima sperimentazione di piazza scolastica in realtà non è esattamente uno spazio antistante la scuola questo però ci ha creato comunque un'opportunità perché alla fine far vedere che un intervento è possibile come è possibile e che risultati ha è fondamentale per poter andare avanti infatti questo intervento è stato poi osservato sono stati raccolti gli esiti e ci ha permesso di dire che è un buon modo di approcciare il cambiamento questo invece è un intervento definitivo è il primo intervento definitivo che è stato fatto sempre a seguito di una chiusura temporanea con la transenna è un intervento anche questo dimostrativo nel senso che essendo il primo poi i successivi abbiamo cercato di capire come correggere il tiro su alcune questioni anche se dal punto di vista della resa architettonica è assolutamente diciamo per noi è un bel intervento ma come vedete l'intervento è costato 300 mila euro quindi la sostenibilità di poterlo replicare non è non c'è almeno con i bilanci attuali per cui abbiamo studiato questa è un'altra un'altra foto abbiamo studiato come fare delle piazze scolastiche delle aree pedonali abbassando il budget sempre sulla filone della chiusura delle strade scolastiche questo è un intervento che è stato inaugurato nel 2023 come vedete ci sono alcuni elementi che ritornano in particolare sull'area d'urbano perché vogliamo dare una certa riconoscibilità a queste aree però una nuova pavimentazione che ci ha permesso appunto di sperimentare intanto il fatto che sia permeabile e non più impermeabile come superficie una pavimentazione che ha una sua giocabilità diciamo legata alle parole un'area verde e che in questo caso per noi è stato molto ricca come esperienza perché si è presa in cura la scuola quest'area verde cioè appena hanno visto qualche filo d'erba che poteva crescere hanno preso in gestione queste aree adesso è molto particolare però anche molto divertente ecco questo modo di proseguire devo dire che le aree del comune forse sono un po' meno belle rispetto a queste questo è un altro intervento sempre di pedonalizzazione questo era come era prima e questo è come adesso è stata un'occasione importante anche per un abbattimento di barriere architettoniche verso la scuola che in questo caso non è stato risolto nel perimetro della scuola ma nella parte esterna e anche un po' per iniziare a far sì che questi interventi non abbiano un perimetro finito che è un buon modo di lavorare i tecnici ma che guardino le relazioni quindi l'attraversamento pedonale che prima era spostato più a nord è stato spostato esattamente in asse con questo spazio è uno spazio condiviso quindi è un modo di regolamentare l'area ancora in osservazione ma ci sembra che stia funzionando perché qui ci sono dei passi carrai quindi è un'area completamente pedonale ma con la possibilità di entrare senza che questo venga diviso funzionalmente nello spazio altre caratteristiche che abbiamo cercato sempre di mantenere e che riteniamo replicabili sono le rastrelliere e abbiamo visto che appena vengono installate si riempiono completamente come vi dicevo la depavimentazione le aiuole ma il coinvolgimento in questo processo anche manutentivo della scuola è stato fondamentale qui per esempio durante l'inaugurazione i bambini avevano fatto delle poesie da attaccare all'albero ecco ovviamente le piazze scolastiche sono più impattanti come lavoro ma anche più spendibili non è di minero conto invece tutto il lavoro sulla sicurezza che si fa e gli interventi di attraversamento pedonale piuttosto che di protezione e di questi ne vengono fatti nei piani di sicurezza stradale questo per esempio è quello in corso in cui al posto della sosta per pochi posti auto si è ampliata la piattaforma del marciapiede anche lavorare in questo modo ci aiuta a essere più diffusivi e più sistemici ecco e un'ottima nota su Città30 Bologna un po' diciamo sui giornali nel dibattito della mobilità in questo momento non apro questo questo tema perché è abbastanza complesso a me quello che importa è che in un interesse sindaco ho trovato nel finale questa frase che è legata all'andare a scuola a giocare in strada in tutta sicurezza quindi di tutti questi messaggi sicuramente ci supporta molto il fatto di poter lavorare anche con un appoggio politico in questo tema grazie 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 mille a Chiara Girotti che mi sembra abbia messo a fuoco 3-4 temi che penso sentiremo oggi ripetere direi che il primo è il tema dell'intersectorialità perché tutto il lavoro è stato impostato sull'intersectorialità e quindi il lavorare insieme anche all'interno di un comune e mi sembra che alla fine dell'intervento abbia detto anche che questo dà adito alla possibilità di uscire oltre i perimetri mettendo invece attenzione alle relazioni quindi risolvere un problema di una barriera architettonica al di fuori del perimetro della scuola diventa nell'ambito di un'intersectorialità possibile quindi è proprio una modalità un metodo di lavoro che ci auspichiamo possa rimanere come linea guida per questo tipo di lavori hai accennato anche a un tema di condivisione con la comunità dicendo che i progetti già condivisi prima con le scuole sono stati i progetti più semplici da realizzare e mi sembra che questo faccia parte di un grosso lavoro di coinvolgimento di comunità che poi ha forse il retro della medaglia in quello che dicevi di chi si prende cura di questi luoghi quindi di un volontariato che è diciamo la forma forse più immediata ma anche più debole di cura di questi luoghi è una domanda che lascio aperta e a cui mi piacerebbe oggi sentire anche una risposta e anche il tema dell'ascolto che è un tema centrale in questi interventi soprattutto quelli sperimentali temporanei di urbanistica tattica che ascoltano le esigenze del territorio e cercano di tradurle in una soluzione che poi forse può diventare definitiva non è detto sempre chiamerai a questo punto Madalina Ursu spostandoci a Milano grazie Madalina Ursu è responsabile dell'ufficio innovativo dello spazio pubblico del comune di Milano è giusta la dicettura e fa piacere anche sapere che c'è un comune che ha un ufficio innovativo dello spazio pubblico presenta invece il programma per lo spazio pubblico a Milano faccio una domanda di curiosità da quanto esiste questo ufficio? buongiorno grazie per l'invito sono particolarmente affezionata a Genova mio marito è genovese quindi conosco un po' la città e quindi sono come come Chiara sono molto contenta di fare questo scambio di esperienza eccoci ho trovato due giorni fa forse avete visto questi dati ho trovato molto interessanti fatto da Will che penso conoscete tutti hanno fatto la domanda a vari cittadini delle varie città come ti sposti a me particolarmente diciamo ho notato che Milano diciamo prende il posto uno dei posti forse il posto sì dove dove i cittadini si spostano meno in auto private che se tu chiedi qualunque persona che lavora in comune nei temi o mobilità sostenibile diciamo tutti gli obiettivi che ci stiamo dando come 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 amministrazione di incentivare in questo questo modo sostenibile secondo me tutti diranno che abbiamo tanto da da fare ancora però come Milano e anche Genova è molto diciamo secondo posto siamo siamo stiamo facendo diciamo forse le cose nella direzione giusta volevo raccontarvi anche diciamo questa questa storia dalla mattina perché sono andata sono venuta in treno e ho deciso di camminare da piazza principi piazza principe fino a qua percorso 19 minuti a piedi 5 minuti sono dovuto lo spesi solo a fare a riuscire a attraversare l'attraversamento perché non ci sono gli attraversamenti pedonali per facilitare chiaramente i flussi pedonali torniamo sicuramente alla stessa idea che menzionava anche l'assessore che la città è stata disegnata per il flusso delle macchine non per il flusso pedonale comunque visto che diciamo la richiesta era di parlare dell'urbanistica tattica vi racconterò il programma che ormai Milano prima del mio arvio aveva avviato nel 2019 con le piazze aperte l'urbanistica tattica come cercate anche voi forse di iniziare qua come strategia di cambiamento di diciamo di ribilanciare un po' lo spazio che il pedone ciclista ha nel diciamo nella città perché l'urbanistica tattica sicuramente lo sapete meglio di me accelerare questo cambiamento il tema delle risorse fondamentale la progettazione dare voce alle persone la progettazione dal basso fondamentale meno tempo meno denaro e forse con più risultato almeno risultato che risultato in termini di coraggiare questa questa mobilità ciclopedonale dare diciamo vita ai quartieri agli spazi di Milano che prima erano occupati dalle macchine come abbiamo fatto noi a livello che strumenti abbiamo utilizzato prima primo avviso pubblico piazza aperta in ogni quartiere nel 2019 era diciamo una cola alla cittadinanza all'associazione a chiunque di prendersi cura di spazi che noi avevamo selezionato come amministrazione che si potevano già pedonalizzare avevano comunque dal punto di vista viabilistico dal punto di vista di diciamo di tutte le analisi tecniche noi consideravamo adatti a cambiare diciamo uso quindi nel primo avviso avevamo dato come suggerimento 50 posti da riqualificare chiaramente anche accettando anche altre suggestioni da parte della cittadinanza l'ultimo avviso come anche noi come Bologna e forse altre città a livello mondiale è focalizzato sulle scuole quindi avevamo chiesto l'abbiamo lasciato libero avevamo chiesto alle scuole a chiunque di suggerire loro ambiti da riqualificare da pedonalizzare perché sicuramente l'ambizione principale è non solo allargare i marciapiedi ma pedonalizzare e ridare questi spazi alla cittadinanza a rendermi più accessibili più fruibili e più vivibili perché sicuramente a parte della fatica che condivido con Bologna di riqualificare e di pedonalizzare questi spazi la cosa fondamentale è l'attivazione sociale dopo quindi come riesci a mantenerli e attivarli con l'aiuto delle associazioni perché sono fondamentale dei genitori delle scuole per dare riquità a questi spazi questo solo velocissimamente farvi vedere le risposte che abbiamo ricevuto nei due avvisi la cosa che è stata impressionante nel livello di Milano è che nel secondo avviso diciamo piazza aperta per ogni scuola 250 istituti scolastici hanno risposto che più o meno è la metà delle scuole a Milano che già ti fa tanto vedere la voglia di cambiamento a Milano abbiamo cercato di costruire proprio un programma vero e proprio creare dare questa struttura e questo si vede anche nei numeri la tema di creare diciamo a livello dell'amministrazione comunale un tavolo condiviso io vengo dalla direzione trasversale questo ufficio è stato creato in una direzione specialistica trasversale che cerca di mettere a fuoco gli sforzi di tutti mobilità in primis urbanistica verde aree urbano polizia locale quindi veramente cercare di creare questa struttura a livello comunale per rispondere a queste richieste anche con l'aiuto della nostra consulenza in house se volete AMAT l'agenzia di mobilità territorio che ci aiuta sulla parte di progettazione comunque solo per darvi un'idea dei numeri inizialmente con il primo avviso abbiamo ricevuto 65 proposte abbiamo 42 piazze realizzate diciamo a livello tacco altre due sono in corso i quali 12 sono scolastiche e abbiamo siamo riusciti a trasformare dal tattico al permanente 6 stiamo lavorando altre 4 una delle cose forse fondamentali che avete notato diciamo le noterete diciamo l'ho sentito anche da Molonia è il tema di fare questa transizione tra tattico e permanente in modo diciamo di non lasciare passare troppo tempo dall'investimento tattico all'investimento strutturale chiaramente facendo anche in modo leggero sicuramente le primi 6 è stato un investimento importante queste 4 che sono in corso noi le chiamiamo trasformazioni leggere dando un carattere cercando di depavimentare introdurre il verde dove è possibile però non investire cercare di di rispondere a queste pressioni del bilancio invece sulla parte delle scuole tante proposte su cui stiamo lavorando adesso 87 proposte realizzate 7 11 corso e altrettanto pianificate per darvi diciamo una panoramica del processo che abbiamo implementato quindi dall'idea dall'avviso pubblico dove abbiamo ricevuto varie diciamo tutte tutte le proposte della cittadinanza abbiamo la valutazione interna con i vari uffici una presentazione diciamo dopo una valutazione nostra di quali progetti sono più ambiziosi quali progetti hanno una fattibilità tecnica che rendiamo realizzabile nel nel breve nel diciamo nel medio breve termine e dove abbiamo notato la condivisione territoriale più alta noi ci siamo fatti un'idea delle proposte con i vari assessorati abbiamo una presentazione con tutti i proponenti dopo inizia la parte di coprogettazione sopra luoghi e qua devo dire che dare voce di nuovo ho sentito l'assessore che raccontava la stessa cosa riuscire a dare voce ai bambini ai ragazzi nella progettazione dello spazio è molto difficile e come amministrazione comunale non siamo diciamo dotati internamente per riuscire a integrare questi elementi quindi con l'ufficio partecipazione stiamo cercando di capire la parte del pedagogista un'idea molto interessante per capire come riuscire uno a gestire le aspettative come dare voce ai bambini e come ripensare la progettazione dello spazio in ottica bambini ragazzi perché sicuramente anche questo trend mondiale come diceva un sindaco di Tirana i bambini saranno 20% della popolazione di una città però sono sicuramente loro 100% del futuro quindi una cosa molto importante nella nostra progettazione nella coprogettazione dopo la condivisione di approvazione interna il patto di collaborazione che sicuramente forse anche a Genova ce l'avete lo strumento giuridico amministrativo per la condivisione di questi spazi abbiamo cercato di creare una struttura chiara per tutte queste piazze aperte in termini di realizzazione manutenzione e anticipazione del territorio la realizzazione è la parte valutativa solo qualche immagine questa è stata al momento iniziale della presentazione delle 87 proposte suddivisi sui 9 municipi abbiamo dato voce diciamo dopo la nostra valutazione dopo la la nostra lettura delle proposte abbiamo dato voce ai partecipanti ai referenti di raccontarci loro il progetto finisato il momento iniziale raccontavo i sopralluoghi vedete veramente i bambini i ragazzi che sicuramente uno più timido dell'altro sopralluogo non dà lo spazio necessario per un racconto di quello che si vuole costruire nel territorio però è una vicinanza dei bambini agli uffici comunali che secondo noi è fondamentale anche perché la prima reazione di tanti bambini con cui ha parlato era siamo un po' delusi perché non c'è un cestino la macchina è un marciapiede non riesco a camminare tanti e tanti problemi quindi riuscire anche a spiegare a dare un po' vita a quello che sta succedendo è un po' l'educazione civica che forse dovremmo fare più parte di collaborazione ormai noi abbiamo parte di collaborazione per tutti questi progetti inizialmente forse qualcuno ce l'aveva altro no ora ormai è fondamentale per questo punto dell'attivazione e la manutenzione dello spazio che la manutenzione per rispondere anche alla sua domanda noi abbiamo sempre detto che la manutenzione una manutenzione base il comune lo deve fare tutto il resto è di più sicuramente in agosto forse aiuta se bagna una pianta di più sicuramente diciamo è molto utile se la scuola fa l'ora di educazione civica va a cercare a vedere se ci sono rifiuti rimetteremo i cestini ci sono però sono azioni che vanno a complementare il volo del comune sono varie immagini che fanno vedere lo spazio davanti alle scuole secondo me questo sì tutto è del primo avviso però di nuovo sono tutte piazze davanti alle scuole la bassa destro era un parcheggio Vallagarina che sta fatta anche con un artista l'altro l'altro elemento che diciamo dalla nostra esperienza interessante a condividerlo e noi abbiamo fatto anche un partnership con arte con la direzione cultura abbiamo un ufficio arte all'un spazio pubblico cercare di avvicinare i musei e gli artisti al mondo scolastico è un altro tema che risponde da tanti obiettivi e per noi è stato un percorso che ha dato tanti risultati quindi con tramite la collaborazione con gli artisti abbiamo fatto i laboratori artistici nelle scuole i bambini analizzavano la loro idea dello spazio pubblico chiaramente l'artista seguendo la 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 sua diciamo identità artistica creava gli spazi che rispondevano comunque il feedback dei bambini che dopo l'aiutavano a creare questi spazi quindi un altro un altro spunto questo sono recentemente realizzate per dare un'idea del diciamo della permeabilità cerchiamo di sicuramente ridare questi spazi alle varie zone di Milano volevo diciamo menzionare questo punto su sul sui budget sulla parte economica tante di queste proposte abbiamo ricevuto 87 stiamo cercando di portare avanti con il nostro budget dedicato a questa iniziativa una trentina ci rimangono comunque circa 60 proposte di persone che hanno messo il loro tempo la loro dedicazione per riqualificare per pensare a riqualificare questo spazio sicuramente la parte più impegnativa lato nostro è l'automobilità perché diciamo riuscire ad analizzare le ordinanze i cambi di abilità è la cosa che prende più tempo la diciamo l'opzione che abbiamo trovato per inserire a cercare di portare avanti i progetti è questa sinergia con tra altri progetti interni che forse a redurbano sta facendo riqualificando una piazza e che avviene a vicinanza alla scuola cerchiamo di mettere comuni che in sicurezza gli attraversamenti allargare il marciapiede comunque ci sono tanti percorsi che se riesci a capire a livello comunale cosa sta succedendo probabilmente ora riusciremo ad integrare un'altra quindicina di progetti solo inserendoli nei diciamo nei progetti strutturali sicuramente non solo tattici che stanno andando avanti in altre direzioni e non solo anche collaborando con i sottoservizi che comunque vanno a scavare la strada tante volte in modo intenso e europeo sì ci sono anche fondi europei esatto però sicuramente i fondi europei sono spot e tante di queste iniziative abbiamo finanziato con fondi europei però sì riuscire anche a collaborare con i sottoservizi è un altro elemento che ci ha aiutato anche a rispondere a questo elemento di cambio di tradizione ambientale perché tante volte se il sottoservizio la forniatura sta andando in profondità chiaramente non gli costa tanto in più creare una iuola che ripavimentare quindi un altro elemento da un altro spunto da considerare ritorno sul tema del tattico da tattico al strutturale secondo secondo noi più di tre anni una piazza tattica arriva al ciclo finale dopo tre anni quindi pianificare questa questa riqualificazione è fondamentale qua vedete piazza Bergano che prima era un parcheggio dopo la riqualificazione in tattico e ora è stato molto noto è autonale però è stato attuale ho voluto anche includere qualche suggerimento per l'articità perché sicuramente per quanto abbiamo arrivato a avere un programma abbastanza esteso ci sono tantissime cose da ancora da da cambiare da da ripensare anche noi internamente questo tema dell'allineamento politico è fondamentale e sicuramente anche noi tra qualche anno avremo un cambio politico quindi fondamentale ancora avere una visione che si può tradurre anche a livello operativo perché per quanto diciamo mobilità sia contenta lavorare con noi alla fine deve essere una chiara direzione di priorità perché ci sono tantissimi temi da comprire quindi perché portare avanti questo non altro le competenze diciamo sviluppare queste competenze sia in termini di esperti nella progettazione sia esperti di territorio di l'ingaggio con i cittadini ingegneri diciamo sono 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 fondamentali avere l'abilità di costruire questo team interdisciplinare che chiaramente è molto collegato al primo se c'è la volontà politica riesce anche a sviluppare qualcosa a livello tecnico operativo un tema che forse non abbiamo gestito benissimo noi all'inizio è questo tema della comunicazione e gestire le aspettative abbiamo ricevuto 87 proposte non potevamo forse gestire meglio l'aspettativa di quanto potevamo portare noi avanti e non lasciare aperta la questione iniziale il tema delle collaborazioni è un tema diciamo in crescita per noi però anche al privato che tante volte si avvicina al comune di Milano immagino sarà la stessa casa a Genova vogliamo partecipare vogliamo riqualificare un pezzo della città riuscire a avere un catalogo di interventi di essere trasparenti sia sulla parte di cittadinanza ma anche internamente perché tante volte internamente si capiscono esattamente quali sono le priorità di intervento quindi avere questo catalogo di interventi comunicato bene internamente e dopo gestito anche con gli attori esterni ti può sicuramente aiutare a portare avanti gli obiettivi e più interventi la diversificazione delle risorse è sicuramente legata anche a questo punto ecco un altro un altro diciamo elemento molto caro in questi momenti è la parte di monitoraggio e valutazione delle iniziative che lo facciamo però non lo facciamo abbastanza e non lo facciamo in modo strutturato quindi è sempre uno spunto per me per noi ma un ricordo di una volta che metti in campo un qualunque intervento aiutarti a mettere in marcia anche il municio raggio perché è fondamentale la parte di programmazione l'abbiamo menzionato quindi sicuramente tanto da imparare sono contenta di sentire anche le vostre idee non so se abbiamo tempo di domande o dopo però vi lascio con questa ultima slide che parla da sola grazie grazie mille e direi che hai arricchito il tema della progettazione dal basso che aveva già affrontato Chiara Girotti aggiungendo il tema specifico dell'ascolto dei bambini per il quale appunto Bologna si è già servita diciamo dalla consulenza di un pedagogista o di una pedagogista forse sicuramente da inserire nel tema dell'intersettorialità e anche dirai molto interessante il suggerimento di coinvolgere sotto servizi e possibili sinergie con progetti interni in questi tavoli ma forse meglio che tavoli strutture tecniche intersettoriali mi sembra importantissimo il suggerimento di Milano che forse da questo punto di vista ha molta esperienza del passaggio tra tattico e strutturale non più di due o tre anni questa è un'indicazione molto concreta che penso risponda molto bene anche al tema manutenzione e cura perché si può fare un fatto di collaborazione per un anno due anni tre anni forse andarlo a reiterare per sempre fa cadere un po' anche la credibilità dell'intervento direi che possiamo passare alla terza relatrice e quindi chiamerai Loredana Poli che invece ciao buongiorno ci racconta e condivide con noi un intervento che riguarda le scuole e gli enti locali anche riguardo alla possibilità di condivisione degli spazi prego grazie grazie per l'invito scusa allora direi che questi due sono avanti e indietro perfetto grazie per l'invito vi porto il saluto anche della nostra sindaca Elena Carnevali che aveva manifestazioni sulla settimana della mobilità con i comitanti se no mi avrebbe accompagnato due parole su di me io sono attualmente consigliere comunale e sono stata nelle ultime due tornate amministrative assessore all'educazione istruzione università politiche per i giovani edilizia scolastica e sportiva Bergamo non è una città metropolitana ed è una differenza da sottolineare è una città che ha 121 mila abitanti e anche la struttura organizzativa e amministrativa è di un altro livello rispetto a quella delle città metropolitane che cosa abbiamo cercato di fare con gli strumenti e le forze che avevamo abbiamo cercato di saldare in termini anche di collaborazione tra settori e servizi diversi di saldare un lavoro partito dal servizio educazione e istruzione in cui ci sono anche dei pedagogisti in collaborazione con le scuole di saltarlo con il lavoro che si stava facendo per la stesura del nuovo piano di governo del territorio quindi strumento master dal punto di vista della visione della città per i prossimi dieci anni la stretta correlazione tra questi due lavori che sono partiti paralleli per poi convergere la trovate nel titolo anche della presentazione cioè abbiamo rilevato e assunto la centralità degli edifici di proprietà comunale occupati dalle scuole del primo grado nella città che sono molto diffusi come in tutte le città lo abbiamo assunto come struttura portante del piano dei servizi del nuovo piano di governo del territorio cioè abbiamo detto e poi dal punto di vista visuale vi faccio vedere un po' di materiali ci siamo detti che quella struttura di luoghi riconosciuti nella prossimità della vita delle comunità riconosciuti da persone di tutte le età poteva essere da supporto per una migliore utilizzo di quegli edifici ma anche dei servizi pubblici innanzitutto pubblici poi si può andare anche sul privato per esempio con le scuole paritarie a supporto di una rete di servizi di quartiere di servizi di prossimità che riesce ad essere animata dalla comunità educante che non vuol dire che si occupa solo di bambini le comunità si educano con l'attività e le proposte che fanno lo strumento lo strumento che abbiamo utilizzato lo abbiamo chiamato piano strategico di utilizzo degli edifici scolastici è uno strumento che abbiamo condiviso con le scuole nella sua costruzione e ha la finalità di mappare gli utilizzi che vengono fatti degli edifici scolastici e delle loro parti ma anche quelle caratteristiche che possono consentirne una migliore fruibilità è evidente che questo ragionamento è partito durante la pandemia che peraltro nella nostra città ha picchiato duro ma in quel momento le scuole hanno sparpagliato ed espanso gli spazi educativi da quell'esperienza siamo andati avanti a ragionare per arrivare a stendere un piano e lo vedrete anche di dettaglio che ci aiuti a programmare gli interventi nelle scuole ma anche risolvere alcuni problemi che vedete citati nelle criticità ultimo punto a risolvere alcuni problemi di gestione dell'utilizzo più o meno condiviso dei spazi scolastici cioè la normativa molto vaga del rapporto molto vaga sul rapporto tra comune ente proprietario e autonomia scolastica istituto scolastico e l'avere a che fare con spazi che negli anni nei decenni sono stati progettati assolutamente con altri criteri cioè nessuno pensava di dover aprire gli spazi scolastici ad altri utilizzi ad altre tipologie di persone allora nel corso di dieci anni abbiamo fatto crescere un progetto scuole aperte che al di là dei contenuti progettuali ci ha consentito di arrivare a formulare alcuni strumenti amministrativi quindi convenzione protocolli di intesa con le scuole abbiamo fatto una pubblicato una manifestazione di interesse per enti del terzo settore che volessero compartecipare alla progettazione e alla gestione delle attività e quindi abbiamo selezionato dei soggetti che poi si sono seduti ad un tavolo di regia comune scuole enti del terzo settore che ha fatto da quadro cittadino e poi ha come dire replicato in piccolo nei diversi istituti comprensivi la struttura di questo tavolo di pensiero è stato utile perché perché dal punto di vista procedurale e amministrativo sia lato comune che lato scuole sono state messe a disposizione delle risorse di pensiero e abbiamo raccolto anche in queste link che vi ho lasciato alcuni strumenti anche quelli se volete meno finali ma più di processo per cui è stato fatto insieme al centro servizi del volontariato tutto un lavoro di focus group con le diverse componenti scolastiche ed è stato sono state scritte delle linee guida delle scuole aperte e messo a punto un toolkit un piccolo strumentario perché ovviamente come succede in altre città la componente genitori ha continuato a dire ma noi cambiamo e ogni volta sembra che non sia stato fatto niente bisogna lasciare chiaro scritto da qualche parte che si fa così e che lo abbiamo già fatto e quindi si può fare questo è stato un passaggio importante di condivisione ora passo a illustrarvi alcune materiali appunto cartografici e visuali sostanzialmente divisi in due parti una parte di ricognizione della situazione sul territorio che ci è servita per arrivare a proporre una matrice strategica del tutto sperimentale che sta nel piano di governo del territorio e che dovrebbe aiutarci a individuare le priorità di intervento o anche le tipologie di intervento sui diversi spazi scolastici una seconda parte più anche di dettaglio e quindi andremo più veloce sul dimensionamento e criteri di dimensionamento e gli usi civici possibili degli spazi scolastici allora la ricognizione è partita dalla localizzazione dell'offerta formativa come vi ho detto il focus è quello delle scuole del primo grado per un comune qui vedete scuole pubbliche di tutti i livelli e scuole paritarie nella città abbiamo poi mappato livello per livello le diverse presenze tra l'altro anche andando ad individuare i poli per l'infanzia quindi da 0 a 6 anni già presenti in città chiudo una parentesi è una normativa nazionale che ha applicazioni diverse nelle diverse regioni e rimane un tema aperto e importante anche di collaborazione tra enti diversi tipicamente comuni e stato nella gestione del percorso 0 a 3 anni e 3 a 6 anni scuole pubbliche del primo ciclo del secondo ciclo e sedi universitarie quindi abbiamo detto cosa è sta dove abbiamo poi cominciato a ragionare su che tipo di infrastruttura diffusa nella nostra città si potesse intravedere dentro quella diffusione di strutture siamo partiti dalle reti istituzionali con le nove autonomie scolastiche del primo grado mappandole abbiamo cercato di dare una rappresentazione grafica anche del numero di studenti per ogni plesso e lo ritroviamo poi in un'altra tavola dove parliamo anche di percorsi e di numero di persone che stanno fuori dal cancello della scuola ad aspettare i bambini quindi importante partire anche dall'attuale dimensionamento ci siamo poi accorti di poter parlare di veri e propri cluster quindi insiemi di più plessi scolastici vicini o molto vicini questi quadrati che vedete indicano una distanza hanno un lato di 500 metri quindi vicini o molto vicini e siamo andati ad individuarli nella città in questo modo passo successivo e secondo quello che vi ho detto sulla base di una aspirazione a individuare la città educante alle scuole abbiamo affiancato la rappresentazione dei servizi previsti e descritti nel piano di governo territorio piano dei servizi e quindi servizi sportivi i servizi culturali i servizi religiosi che sono anche gli oratori non solo le scuole quindi importanti per la fascia d'età che va a scuola i servizi sociali per anziani e per giovani le piazze e le aree pubbliche pavimentate le aree verdi le abbiamo collocate sulla mappa e poi siamo andati a riguardare i cluster allargando fino a un chilometro il lato di cui vi parlavo e così abbiamo visto che nella città e in tutti i quartieri c'è la possibilità di mettere più sistematicamente in relazione quelle tipologie di servizi di cui vi ho appena parlato allora abbiamo detto dai cluster scolastici possiamo cominciare a ragionare sui servizi aumentati cosa vuol dire aumentati che interagiscono tra di loro per aumentare la risposta vicina ai cittadini e alle comunità in cui stanno abbiamo identificato scusate una serie di situazioni quelle che vedete cerchiate e le abbiamo sistematizzate e studiate anche dal punto di vista del potenziale di connessione cioè abbiamo cercato di disegnare delle possibili interazioni o delle possibili aree di trasformazione tattica strutturale quello poi quando parliamo di soldi decidiamo come fare che percorso individuare però abbiamo individuato questo potenziale di connessione e lo abbiamo messo poi in relazione con la struttura del piano di governo del territorio più in generale quindi da quei cluster abbiamo quei cluster sono stati suddivisi nei cinque quadranti che sono la divisione territoriale che ha adottato il piano di governo del territorio così lo possiamo sovrapporre agli altri strumenti territoriali e ogni quadrante ha questo tipo di rappresentazione quindi il cluster in rosa diciamo le possibili aree di implementazione di progetti di connessione tra i servizi e poi abbiamo segnato tutta una serie di percorsi e soprattutto quelli ciclopedonali che ci interessa in questa sede tenere ben presenti questo è uno degli esempi di rappresentazione con la descrizione di ciò che sta in quel cluster alla fine di questo lavoro abbiamo elaborato anche una scheda tipo con la in modo da poter avere poi una omogenea descrizione dei diversi cluster e questa è la scheda che descrive che cosa ci sta dentro e che cosa quali aree potrebbero essere implementate con anche una serie di caratteristiche di mobilità e di accessibilità così come di superficie permeabile non permeabile quindi una descrizione già molto concreta per poter poi intervenire l'incrocio con il piano di governo del territorio ci ha portato poi a guardare gli strumenti di programmazione che stanno nel nuovo PGT è stato approvato nel 23 che sono i percorsi culturali quindi scuole e percorsi culturali abbiamo provato a vedere rispetto ai percorsi culturali disegnati nel piano di governo del territorio dove stanno i cluster che avevamo individuato ed ecco che abbiamo individuato quelli più coerenti con i percorsi individuati parchi e cintura verde stesso lavoro abbiamo cercato di connetterli con alcuni cluster i più vicini significativi infine abbiamo tracciato una ipotesi anche con le previsioni contenute nel biciplan di connessione tra scuole e aree verdi reticolo idrico e percorsi ciclopedonali questa è la mappa che come vedete ha un'altra grafica perché è una mappa di utilizzo quotidiano anche per le famiglie e le scuole è la mappa proprio dei pedibus anche noi abbiamo tante scuole attive da questo punto di vista e questo è un bacino di persone grandi e piccole e di comunità che presta attenzione ai ragionamenti che vi sto spiegando la matrice strategica che conclude il lavoro di connessione col PGT ha cercato di mettere appunto in un documento sintetico le dotazioni interne della scuola gli altri servizi del cluster poi le quattro strumenti del PGT che vi ho citato cioè le dorsali di sviluppo parchi cintura verde i percorsi culturali e il biciplan e infine quella che si chiama matrice di quartiere che comprende i dati socio-demografici del quartiere a cui si riferisce la scuola questo quadro consente di incrociare delle informazioni macro che servono però per individuare delle priorità anche rispetto all'evoluzione della demografia della città che è un tema su cui siamo strani in ritardo non ci entro ma capite di cosa sto parlando entro adesso nella seconda parte della esposizione ed è molto più breve che riguarda usi accessi e dotazioni proprio delle scuole come abbiamo lavorato abbiamo messo su scheda una descrizione della di ciascuna scuola quindi anche con la verifica dell'area verde dell'area favimentata se sia permeabile o no che tipo di dotazioni di altro tipo o di tipo utilizzabile da altri quindi sportive auditorium biblioteca locali refettori che peraltro sono a gestione comunale perché il servizio mensa dipende dal comune quindi tra l'altro in quello spazio si supera la distinzione tra datore di lavoro il dirigente scolastico e proprietario dei muri perché il comune lì è proprietario dei muri e datore di lavoro degli addetti lo dico perché anche su questi piccoli inciampi amministrativi i progetti poi si fermano si schiantano o si rallentano moltissimo bene abbiamo messo su carta la pianta abbiamo pensato insieme ai dirigenti scolastici a quale domande di verifica periodica su quali domande di verifica periodica chiedere la loro collaborazione quindi posto che dalla pandemia in poi sono stati aperti n ingressi uscite dagli edifici scolastici che prima erano uno ok posto quello la domanda è lo stai usando ancora chi lo usa addetti specialistici o anche gli alunni e poi la verifica degli spazi cioè se fosse coerente l'uso segnato sulla mappa con quello che viene trasformato molto facilmente dalle scuole senza che avvenga una comunicazione formale per esempio questa è la compilazione di un dirigente scolastico che ha messo le sue annotazioni sulla planimetria e poi ci ha consentito di recepirle nelle planimetrie definitive abbiamo messo su mappa tutte le palestre scolastiche e le attrezzature sportive contenute nelle scuole che sono un patrimonio molto ingente e abbiamo di conseguenza modificato e riapprovato il regolamento di utilizzo degli spazi sportivi scolastici avendolo rivisto insieme ai dirigenti scolastici proprio dal punto di vista delle responsabilità delle competenze di gestione di ciascun soggetto e così le abbiamo ricollocate nei cluster che vi dicevo stessa cosa abbiamo fatto per i cortili scolastici playgrounds e aree verdi quindi di nuovo una mappatura di dettaglio mense auditorium e attrezzature culturali come vi dicevo mappatura specifica l'abbiamo messa sulla carta ovviamente c'è una parte di dati che non vi mostro nemmeno sugli studenti quindi sulla demografia i numeri ambiti quartieri se e come i quanti studenti iscritti a quella scuola siano o no residenti nel quartiere nelle città questo è un tema legato a una serie di motivi compresa la presenza più o meno di bambini e bambine di famiglia straniera che determina lo abbiamo visto nei decenni e continuiamo a vederlo determina spostamenti degli altri in plessi scolastici differenti è una è un tema sul quale i comuni fanno grandissima fatica a avere una voce in capitolo perché perché l'autonomia scolastica dice che tu famiglia ti puoi iscrivere dove vuoi dove meglio credi non fosse che questo significa mobilità da una parte all'altra della città perché hai scelto di andare a te la pesca dove e quindi problemi della città e anche richieste delle famiglie che dicono vabbè ma allora se mi posso spostare dammela tu la dammi il pulmino per andare da qui ma se io non riesco a programmare chi parte da dove perché appunto ogni anno le iscrizioni sono diverse perché e come faccio e perché mi devo far carico a priori di questo tema quindi è secondo me una ferita aperta nella gestione della popolazione scolastica nelle città vi dice si chiudo allora perfetto allora va bene lasciamo perdere ecco questa è la mappa dei residenti e non residenti nel comune cioè non ci siamo tanto permessi di andare al di là ma vengono persone nel capoluogo tipicamente anche da fuori comune per motivi più diversi compresi quelli di lavoro i numeri medi per classe va bene qua andiamo avanti che non è fondamentale isocrone e numero di classi perplesso questo invece è una rappresentazione interessante e quindi abbiamo la macchia grigia attorno alla scuola grigio chiaro cinque minuti no grigio scuro cinque minuti e dieci minuti grigio più chiaro a piedi eh che è interessante lo abbiamo fatto per ogni livello tra l'altro guardate le scuole primarie saturano praticamente tutta la parte edificata della città e quindi il quadro di dimensionamento riassume tutti gli elementi di cui vi ho parlato e ci può consentire di fare delle scelte di priorità anche nella durante la fase di scrittura del piano delle opere pubbliche allora quale strada possiamo far diventare strada scolastica e perché quella e non quell'altra di che cosa ha bisogno una scuola per allinearsi con un livello medio di dotazioni rispetto alle altre eccetera eccetera con questo quadro complessivo riusciamo ad avere una visione d'insieme vi ringrazio molto e anche per la pazienza grazie a te da Napoli l'osservazione conclusiva dirai importantissimo legame come legare tutti questi interventi che sembrano a spot e singoli con una visione strategica ma legarla in modo diciamo analitico anche attraverso un lavoro pre di matrice di analisi ma poi viene recepito dal piano di governo del territorio mi sembra che questa sia veramente l'auspicio perché tutti questi sforzi interventi di cambio di modalità di operare perché sicuramente la modalità dell'urbanistica tattica e quello che abbiamo ascoltato oggi appartengono ad un modo diverso generano anche un'urbanistica diversa questo è un modo di riuscire ad ancorarli a quello che poi è lo strumento sovraordinato io faccio solo un'osservazione anche perché sono consigliere della fondazione dell'ordine degli architetti quindi c'è un tema anche di professione poi facciamo la pausa e l'architetto giusto poi fa l'intervento nella sessione successiva sì mi sembra anche interessante rilevare che le relatrici che oggi ci hanno portato dei contributi hanno formazioni anche molto differenti chi ha studiato architettura chi ha un background più economico chi invece ha studiato architettura ma poi ha completato con l'abilitazione all'insegnamento politiche di genere questo secondo me pone un tema interessante anche rispetto alla professione dell'architetto che sta diventando sempre più complessa sempre più mischiata sempre più contaminata e questo penso sia un tema anche da tenere in considerazione perché spesso e questo lo dico perché come professionisti ci troviamo di fronte a problemi di un'amministrazione in difficoltà a proporre un intervento di urbanistica tattica perché sembra una cosa come dire quando sappiamo che invece è una soluzione è un tentativo temporaneo di sperimentare con qualcosa per fare questo bisogna avere determinate competenze di facilitazione di ascolto di messa in rete di soggetti di stakeholder quindi anche la nostra professione si sta un po' trasformando io direi che con questo possiamo fare una breve pausa di dieci minuti ok ciao Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.